Grazie. 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 Speriamo di aver risolto i problemi tecnologici per cui possiamo dare inizio a questo seminario. Per chi non mi conosce, io sono Caldi Roli Marco, l'attuale presidente di Medicina Democratica e parlo anche a nome del coordinamento regionale Campagna Dico 32 per il diritto alla salute. Questo coordinamento è nato sostanzialmente sull'onda della pandemia per rimettere assieme i diversi comitati e diverse realtà che da anni combattono per un miglioramento della salute e in particolare per tutelare la sanità pubblica. Abbiamo fatto tutta una serie di iniziative, ricordo molto velocemente le firme per il commissariamento della sanità lombarda, abbiamo partecipato alla grande manifestazione davanti a Piazza Duomo nel giugno del 2020, a novembre sotto la regione 2020, un anno fa, sempre in occasione di questa iniziativa del 7 di aprile. A ottobre 2021 abbiamo fatto un'altra manifestazione sempre davanti alla regione, abbiamo seguito e contestato l'andamento della discussione sulla nuova legge, sulla modifica della legge regionale sanitaria in Lombardia, per cui proseguiamo su questo percorso. Oggi è un seminario di approfondimento, per questo abbiamo invitato in particolare personaggi che rappresentano anche della realtà tra virgolette esterne, ma che comunque seguono aspetti analoghi e sicuramente abbiamo punti di condivisione, di concordanza su molti aspetti e quindi vuole essere anche un momento di confronto oltre che di approfondimento. Ricordo che la giornata, anche se siamo al 9 aprile, è come se fossimo al 7 di aprile, nel senso che fa parte di quelle iniziative a livello europeo che è una rete di associazione, tra cui la nostra, fanno da diversi anni a questa parte e in occasione della giornata mondiale della salute stabilita dall'OMS un bel po' di anni fa e noi la carichiamo invece di significato di una giornata contro la commercializzazione della salute. Quindi siamo in questo ambito. Quello che ci troviamo di fronte, che stiamo vivendo in questo momento, è una modifica sulla organizzazione, diciamo così, sanitaria a livello nazionale grazie o in virtù o in qualche modo spinta dal piano nazionale di resilienza e ripresa che ha introdotto la missione, che è quella sulla sanità, in cui vengono con l'intento o perlomeno dichiarato di migliorare le condizioni, in particolare della medicina territoriale, che è quella che è mancata, diciamo così, abbiamo visto che è mancata durante la pandemia, con questo intento ha stanziato fondi, anche se ovviamente ci sono tutta una serie di aspetti critici che speriamo di poter approfondire oggi, in particolare Lombardia, e finisco l'equivalenza pubblico-privato, mette in discussione anche un buon utilizzo di questi fondi e nel frattempo si avvicinano le nubi dell'autonomia differenziata e quindi con un rischio di ulteriore frammentazione tra le tante regioni d'Italia rispetto al modo di approcciarsi a questo tema. Adesso interverrà, per dare dei saluti, il segretario della Camera del Lavoro, Vincenzo Greco. Chiedo poi agli intervenuti di stare nei 15 minuti, io avvertirò magari quando ci sia prossima a quella, a un minuto prima, per cercare di stare dentro e permettere a tutti di parlare, quindi magari anche di poter fare degli interventi da pubblico. ringraziamo ovviamente a CGL per averci ospitato, ma giustamente non è che lo fa a gratis, per cui fuori c'è una bella cassettina, per cui chi vuole anche contribuire alle spese è più che gradito, trovate anche le nostre riviste, le medicine democratiche, alcuni libri, per chi è interessato poi per approfondire ulteriormente, trovate anche queste possibilità. Grazie. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti. Io, a nome della segreteria della Camera del Lavoro di Milano, volevo ringraziare la Medicina Democratica per aver scelto questo luogo, che è la Casa delle Lavoratrici e dei Lavoratori Milanesi, come luogo dove tenere questo seminario, e io penso che questo appartenga anche ad una lettura di vicende che ci hanno visto assieme in tante battaglie. Ecco, voglio partire come un'affermazione semplice di questo tipo perché siamo assieme portatori di punti di vista, quindi non vuole essere un saluto retorico, soltanto un benvenuto, vuole essere il mio un saluto che prova anche a sottolineare alcuni aspetti che riguardano una vicenda come quella che tratterete voi oggi e che arriva da una storia, la storia della nostra regione, la storia dei nostri territori, che è stata drammaticamente attraversata, a dispetto della famosa eccellenza lombarda, dagli effetti che il Covid ci ha, come si può dire, portato lì solo da da vedere e che in qualche modo sono la risultante di una di una scelta che proprio corrisponde ad un'idea di commercializzazione e di privatizzazione del diritto alla alla salute. Allora, noi abbiamo avuto una lettura critica delle diverse riforme che si sono avvicendate nella nostra regione, i dati purtroppo drammaticamente hanno messo a nudo la fragilità, la vulnerabilità del del modello ed è un modello che stenta ancora una volta, veniva detto prima con il riferimento al piano nazionale di ripresa e resilienza, che stenta ancora una volta ad affermarsi, non c'è ancora dal nostro punto di vista una risposta efficace. Così come quindi abbiamo detto durante la pandemia che non bisognava fare profitto sui vaccini, perché questo era uno dei terreni sui quali ci siamo misurati, nel nostro territorio continuiamo a dire che i processi di privatizzazione sono processi che vanno in una direzione sbagliata, in una direzione che favorisce l'amplificarsi delle disuguaglianze che già ci sono e che l'ambito delle disuguaglianze sempre più marcatamente diventa sociale e territoriale, questo è un tema all'interno di una visione che vede i diritti come un fatto universale, perché le tuteli universali garantiscono i tuteli individuali senza distinzioni di censo e di appartenenza. Quindi questo è un terreno sul quale noi ci siamo già incontrati nelle piazze anche di questa città ed è un terreno che ci unisce nell'ambito di una di una battaglia per l'affermazione di diritti universali e per l'affermazione di un contrasto di una pratica, di una lotta e di un'iniziativa per il contrasto alle disuguaglianze e io dico che va nel senso della democrazia e della giustizia sociale. Io vi auguro un buon lavoro, purtroppo non potrò fermarmi per tutti i tempi del vostro lavoro, però vi ascolterò ai volentieri. Grazie e buono lavoro. Bene, adesso il primo intervento è di Daniela Padovan dell'associazione La Dota Osi perché abbiamo voluto anche ricordare che in questo periodo c'è anche una guerra in corso, un'invasione di un paese con tutti gli annessi e connessi e quindi vogliamo partire da questo aspetto che è ovviamente anche delle conseguenze sulla salute non solo di chi si becca le bombe ma anche da parte nostra. Se riusciamo a stabilire il collegamento. Daniela Padovan dell'associazione Laudato Osi. Io vi sento, non so. Vai. Posso andare? Non vedo nessuno, non so se sono collegata. E adesso c'è il collegamento? Sì, certo. Sì, benissimo. Vi ringrazio, vi ringrazio molto per questo invito e mi dispiace tra l'altro non essere potuta stare lì con voi in presenza, però cercherò di svolgere questo intervento così ampio di contesto che mi è stato assegnato, guerra, immigrazioni e salute, per dire che credo che nella situazione attuale la guerra e la minaccia atomica che stiamo vedendo spalancarsi in questi giorni sia davvero un compendio dei temi che fanno da contesto a ciò di cui state trattando in questa giornata. Noi sappiamo che pandemie, riscaldamento climatico, perdita degli ecosistemi sono strettamente connessi e sappiamo che ci mostrano che la salute delle persone è strettamente necessariamente legata a quella del pianeta. Allora, vedere come c'è un comune denominatore in tutte le crisi che stiamo attraversando una dopo l'altra in una sequela impressionante, la crisi climatica, quella che è stata chiamata la crisi migratoria, la crisi pandemica e ora la crisi bellica e nucleare. Ecco, tutte queste crisi o in alcuni casi cosiddette crisi come quella migratoria sono il frutto di una medesima cultura che è quella che nella Laudato Si Papa Francesco ha chiamato la cultura dello scarto, è una cultura di predazione, una cultura antropocentrica che ha come cose in comune che si tratta di guasti introdotti da noi, dagli esseri umani. Ecco, queste crisi sono tutte state lungamente annunciate. Sappiamo che la crisi climatica, la crisi pandemica hanno avuto quantità di scienziati che hanno avvertito i decisori politici che era necessario agire per tempo, ma nulla è stato fatto. In comune hanno anche, che sono diventate oggetto di politiche, che mentre si propongono di affrontarle, mentre si vestono di eufemismi, di strutture, di azioni comuni che dicono di voler affrontare il problema, in realtà guardano anche molto con precisione a quali sono i guadagni politici, a quali sono i guadagni economici che da queste crisi possono nascere. Questo è stato, ce l'abbiamo di fronte a quello che è successo con la crisi dei profughi, mentre la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, dicevano e proclamavano i diritti umani, il diritto del soccorso in mare, di fatto dismettevano il soccorso in mare, stringevano accordi con la Libia e con la Turchia e hanno creato quel vuoto omicida che abbiamo adesso nel Mar Mediterraneo. Con la crisi del clima noi abbiamo visto un accorrere a cercare di produrre nuove politiche, il New Green Deal e una serie di altre cose che hanno portato poi al PNRR. di cui non è questa la sede per discutere, ma insomma vediamo come alle dichiarazioni facciano seguito poi delle azioni che molto difficilmente vanno nel senso di una reale consapevolezza e volontà di affrontare il problema. Peraltro l'Unione Europea subito dopo questi proclami a difesa del clima e di comprensione dell'assoluta emergenza del riscaldamento climatico ha cominciato ad aprire le porte alla possibilità di un nuovo nucleare che dovrebbe essere Green per affrontare la crisi energetica. Ecco però torniamo appunto a questo susseguirsi di crisi, della crisi pandemica, voi parlerete molto meglio e più accuratamente. Io voglio soltanto dire che abbiamo visto che il diffondersi della pandemia con le immagini di fosse comuni nei diversi continenti, con l'iniqua possibilità di accesso alle cure, ai farmaci e ai vaccini, con l'introduzione di criteri di selezione nell'ingresso alle terapie intensive ha di fatto mostrato le estreme implicazioni di quella che appunto chiamiamo cultura dello scarto. E adesso la guerra in Europa è il baratro atomico che vediamo spalancarsi nelle nostre esistenze. Si sente parlare di un ritorno al Novecento, di un retrocedere della storia, come se la guerra nel 2000 fosse una sorpresa non più destinata alla civiltà. E questa è una menzogna enorme perché la guerra fredda, lo scontro tra squerpotenze, tutto ciò che sta dietro, come anche cultura appunto di predazione e di sottomissione degli esseri fino a prevederne la scomparsa, è stata sempre presente in quella che Papa Francesco ha chiamato la terza guerra mondiale a pezzi e che adesso rischia di diventare una terza guerra mondiale invece con un epicentro, non a caso lo stesso epicentro che ha avuto la seconda guerra mondiale in Europa. Di fronte a questa crisi noi vediamo che la spesa militare globale è stata addirittura raddoppiata negli ultimi vent'anni. Nel 2020 ha quasi raggiunto i duemila miliardi di dollari e nel duemila ventuno è arrivata a duemila trenta miliardi di dollari con una posizione che è quella dell'Italia con ventotto e nove miliardi di dollari che è l'undicesima addirittura prima di Australia e Canada. E tutto questo mentre milioni di persone muoiono di fame, di malattie, mentre si nega accoglienza a chi fugge dalle guerre, da altre guerre. E insomma di fronte a tutto questo voi sapete che a gennaio 50 premi Nobel, tra cui il nostro Giorgio Parisi, il premio Nobel per la fisica, hanno firmato un appello rivolto ai governi del mondo in cui chiedevano di ridurre del 2% le spese militari e di destinare le risorse che in questo modo venivano risparmiate ai problemi più gravi che affliggono l'umanità, tra cui la pandemia, la crisi climatica, la povertà estrema, il diritto alla salute. Ecco invece vediamo adesso il 2% di PIL viene preteso per difesa e armamenti e questa è una cosa che non viene da nulla. Già nel 2018 gli Stati Uniti premevano perché i governi italiani cedessero a destinare il 2% del PIL, non solo quelli italiani, il governo europeo, insomma nella Nato, destinassero il 2% del PIL ad armamenti e difesa. Ma tutto questo significa che noi alimentiamo i disastri che stiamo vedendo, un continuo armamento, un continuo destinare risorse agli armamenti non può che portare all'uso di questi armamenti. Allora il disastro sconvolgente che l'invasione russa dell'Ucraina ci mette davanti agli occhi è senz'altro quello del dolore, della disperazione, dell'ecidio che si sta compiendo, ma è anche lo scenario del possibile sterminio nucleare nel quale in questi anni noi ci siamo abituati a vivere fingendo che fosse sotto controllo, fingendo che fosse normalizzato, fidandoci in qualche modo della menzogna, della deterrenza che ci è stata propinata così a lungo. Però in questi ultimi giorni, in questo ultimo mese, ci siamo abituati a sentire e a leggere giornali che titolano Minaccia atomica, foglia nucleare, incubo dal passato e di una guerra senza vincitori, tra potenze nucleari, ha parlato il presidente russo Putin. Però della folle proposta, proposito di rivedere la dottrina del first nuclear strike, il primo colpo atomico, ha parlato invece il presidente degli Stati Uniti. Questo ci mette di fronte a uno scenario che la Federazione degli Scienziati Americani, in un rapporto sullo stato delle forze nucleari nel mondo del 2022, dice essere di grande distruttività perché l'insieme degli ordini che sono stivati nel mondo in questo momento, la forza è pari a 500.000 bombe di Hiroshima ed è capace di portare all'estinzione dell'umanità e addirittura della vita sulla Terra. Contro ogni logica, dice la Federazione degli Scienziati Americani, anziché pianificare il disarmo, gli stati dotati di armi nucleari possono pianificare il mantenimento di grandi arsenali per un futuro indefinito, aggiungendo nuove armi nucleari e ampliando il ruolo che tali armi svolgono nelle strategie nazionali. Noi sentiamo parlare sempre più spesso e con una leggerezza impressionante nei talk show tra una pubblicità e l'altra di uso tattico, di atomiche tattiche, quasi che in gentilire le parole servisse a depotenziare l'effetto tragico di che cosa queste invece implicano. Però la lettera, la lettera appello che questi scienziati, questi premi Nobel avevano inviato alle potenze atomiche e anche agli stati che hanno aderito al trattato di non proliferazione, diceva delle cose molto chiare, oltre alla richiesta di eliminare entro il 2045, cioè in occasione dei 75 anni del trattato, le armi atomiche. Dicevano che noi siamo di fronte a un rischio concretissimo che scoppia una guerra nucleare per diversi motivi, sia senz'altro per premeditazione e dunque per una escalation internazionale, sia per errore di calcolo, sia per disinformazione, oppure dicono per malafede, ovvero per un uso non autorizzato, o per malfunzionamento, un uso accidentale. Ora, in ogni caso, lo scenario che noi potremmo avere di fronte è evidentemente quello di uno sterminio, uno sterminio che riguarda anche l'Italia, perché lo sapete, in Italia noi abbiamo le aerobasi di Ghedi a Brescia e quella di Aviano a Pordenone, dove sono tenute in gran segreto, mai dichiarate dai governi italiani, armi nucleari pronte a essere utilizzate e il tornado, gli F-16 che le trasportano, sappiamo dai militanti che monitorano continuamente la situazione, che sono in stato di allerta. Allora, queste armi non appartengono alla Nato, che non dispone di testate nucleari, ma agli Stati Uniti. La posizione dell'Italia, che rimane bloccata a quelli che erano gli accordi della Guerra Fredda, e questo va ricordato, durante la Guerra Fredda l'Italia aveva il compito di rispondere a un eventuale attacco sovietico contro i paesi Nato, sganciando testate nucleari americane su Praga e su Budapest, e la potenza di una sola testata sarebbe stata sufficiente a radere a solo le due città. Ora, la Guerra Fredda dovrebbe essere finita, l'Unione Sovietica sicuramente non c'è più, ma questa ideologia e questo anche interesse politico ed economico continua invece a spostare ed aumentare il livello di conflitto. In tutto ciò, l'Italia non solo viola il trattato di non proliferazione che noi stessi abbiamo ratificato, ma viola anche la nostra Costituzione che si fonda sul pudio assoluto della guerra e viola la volontà dei suoi cittadini che si sono con chiarezza espressi per il no al nucleare. Io vorrei solo aggiungere che così come all'inizio degli anni Ottanta una vittoriosa campagna non violenta ottenne la completa riconversione a uso civile della base per missili nucleari Cruis di Comiso e al posto della base adesso c'è un aeroporto intitolato Pio La Torre che è il dirigente politico ucciso dalla mafia proprio neanche un mese il 30 di aprile dell'82 neanche un mese dopo la grandissima manifestazione contro i missili atomici in cui a Comiso giunsero un milione di persone da tutta Italia. Ecco, questo è un esempio, questo è un pezzo della nostra storia che dobbiamo avere presente perché io credo che il nostro compito di noi tutti che ci diciamo pacifisti che ci diciamo di sinistra che ci diciamo per i beni comuni e per la Costituzione è quello di mobilitarci per un futuro senza bombe e un'ultima cosa una riflessione anche sulla atomica civile. Noi siamo di fronte all'invasione di uno Stato l'Ucraina che ha sul proprio territorio 15 centrali nucleari civili oltre a Chernobyl che è il simbolo però in assoluto del disastro atomico accaduto nell'86 e abbiamo visto come le centrali civili possono e se stesse diventare un'arma in mano di chi le controlla e quindi possono entrare pienamente in uno scenario bellico. Ed è di oggi la notizia del premier britannico Boris Johnson che ha rilanciato senza mezzi termini il nucleare come risposta al caro energia dicendo che questo aumento del costo del gas dovuto alla guerra di Putin deve essere affrontato disseminando il paese in questo caso l'Inghilterra con la costruzione progressiva di nuove centrali. Ora davvero occorre chiedere che il nucleare finisca anche quello civile perché non solo non è una scorciatoia per affrontare il cambiamento climatico ma comporta la gestione di scorie radioattive che restano in modo illimitato nel tempo comporta l'uso di un materiale pericolosissimo che dicevo può diventare scenario di guerra e malgrado la nostra volontà è inserito come una spina nella carne dei nostri paesi e delle nostre esistenze e tra nucleare militare e nucleare civile esiste una stretta comunanza perché il modello nucleare è sempre centralizzato e sempre richiede la militarizzazione del territorio oltre alla segretezza operativa dunque è anche e profondamente una questione di democrazia con questo chiudo il mio intervento spero di essere stata nei tempi ripetendo che il problema di chiunque voglia essere pacifista oggi è la denuclearizzazione e la richiesta è una lotta comune perché le ingenti risorse che vengono destinate a questi beni micidiali vengano invece indirizzate alla difesa dei beni comuni della salute e del nostro pianeta grazie ringraziamo Daniela Padoan adesso passiamo all'intervento di Vittorio Agnoletto che parlerà di un altro tipo di guerra ovviamente fatta in un altro modo che è quella dei vaccini e relativi prevetti buongiorno a tutti e a tutti e questo è ovviamente un momento di riflessione e di approfondimento io so benissimo di parlare a un pubblico già molto esperto in questi temi e quindi cercherò come mai e quindi cercherò di parlare di dare per scontato una serie di conoscenze di informazioni cosa pronto pronto parto da un'osservazione su una vicenda di ieri e di oggi provando a collegare l'intervento di Daniela con quello che poi seguirà trovo indecente e inaccettabile la modalità con cui su alcuni media e io sono abituato sempre a fare i nomi e cioè in questo caso in particolare mi riferisco al quotidiano domani è gestita la vicenda russi in Italia e vaccino è una spy story così come rappresentata ogni giorno c'è una puntata di uno o due pagine e l'altro giorno terminava dicendo se qualche cittadino ha delle documentazioni da portare ci può contattare mi interessa poco sapere esattamente com'è andata la vicenda mi interessa molto invece il punto centrale attorno a cosa ruota tutta questa vicenda i russi sarebbero venuti in Italia per prendere materiale connesso al virus e alla coltivazione diciamo del virus in modo tale da poter sviluppare il vaccino io mi chiedo se siamo impazziti questa non deve essere gestita come una questione di spionaggio internazionale il punto deve essere molto più semplice chiunque aveva ed era in possesso di informazioni di ceppi virali doveva metterli immediatamente a disposizione di tutto il mondo perché i laboratori che fossero in Cina in Russia negli Stati Uniti in Canada in Italia in Australia in Sud Africa eccetera potessero arrivare per arrivare prima di tutto a individuare un vaccino e individuare dei farmaci è una follia questo discorso di utilizzare la pandemia dentro una logica di conflitto geopolitico così come è una follia chiedere di interrompere tutti i ponti sulla ricerca scientifica e medica se si lavora insieme per trovare dei vaccini e per trovare dei farmaci significa costruire dei ponti anche in situazioni di guerra noi abbiamo bisogno di ponti invece la logica è quella chiunque fa un passo scientifico in avanti se lo tiene per sé se lo custodisce non gliene frega assolutamente nulla della condizione di vita di milioni di persone se puoi salvarle se puoi evitare i decessi ma pensi ai profitti e pensi a forme esasperate di nazionalismo e questo non va bene da nessuna parte se lo Spallanzani era andato più avanti nella ricerca scientifica io ritengo che fosse compito dello Spallanzani di mettere a disposizione di tutti quei passaggi avanti così come la Cina ha messo a disposizione di tutti il genoma o stiamo a vedere chi muore e il fatto che i nostri media vadano in questa direzione si precipitano tutti a trattare ogni argomento come se fosse un problema di conflitto di guerra a zero secoli di storie della medicina e della scienza secondo passaggio sulla guerra si parla poco delle condizioni che stavano dietro precedentemente mi limita le questioni sanitarie l'Ucraina era al settantaquattrisimo posto come indice di sviluppo umano prima dell'inizio della guerra penultima nella regione europea solo davanti unicamente alla Moldavia ha avuto una diffusione nel giro di pochi due o tre anni fa della polio con casi di polio e una diffusione di morbillo ce ne siamo occupati i nostri governi hanno detto qualcosa ma per noi la salute continua a essere al primo posto l'hanno fatta alcune istituzioni scientifiche italiane che hanno portato avanti i progetti di gemellaggi di aiuto con istituzioni scientifiche ucraine e quando è uscito un rapporto di Save the Children finanziato da una fondazione del Canada che qualche anno fa tre anni fa circa che andava ad analizzare il disastro dal punto di vista della salute in particolare dei minori nel Donbass una guerra che andava avanti ormai dal 2014 qualcuno se ne è interessato in Europa dico l'ha finanziato il Canada zero se noi mettiamo la salute al primo posto allora vediamo immediatamente il mondo con altri occhiali terzo passaggio tutta questa vicenda dei vaccini più andiamo avanti più escono documenti e carte è stata gestita tutto dentro una logica di scontro geopolitico oggi il punto fondamentale lo conoscete tutti i vaccini non arrivano praticamente nel sud del mondo nel sud del mondo abbiamo il 10% quando va bene della popolazione vaccinata chi se ne frega eh no perché adesso il sud del mondo per esempio sta andando verso la stagione invernale e nella stagione invernale il virus si diffonde di più e diffondendosi di più si moltiplica moltiplicando si sbaglia le triplette produce varianti maggiormente aggressive che nel prossimo autunno ci troveremo qua e non basta non parlarne per dire che queste varianti non arrivano la variante XE che è una combinazione di Omicron 1 e Omicron 2 oggi si sta diffondendo in Europa e arriverà in prospettiva a sostituire Omicron ed è documentato che contro questa variante i nostri vaccini servono ancora meno continuano ad essere efficaci per bloccare in gran parte il passaggio verso la malattia ma non è la diffusione quindi se si diffonde tanto per una questione di principio matematico aumenteranno anche quelli che evolvono che riusciranno andare purtroppo verso la malattia grave e verso il decesso e allora non ci interessa non parlo di solidarietà perché a chi se ne frega per molta gente di questo tema non parlo per noi parlo di quello che noi dobbiamo dire al di fuori di qui ma quello che rischia venire oggi nel sud del mondo di ottobre e novembre da noi è estremamente grave eppure se ne fregano si parla di quarta dose voglio essere chiaro il punto qui non può essere che dobbiamo finire con i magazzini dei vaccini che abbiamo perché i vaccini che abbiamo sono stati preparati sulla prima dose quella cinese si parla che tra qualche mese avremo un nuovo vaccino noi abbiamo bisogno di avere un nuovo vaccino adesso cosa fai? La quarta dose adesso è fragile e tra quattro mesi gli proponi una quinta dose che poi non sarà una quinta dose sarà un vaccino diverso contro le nuove varianti seguendo i tempi stabiliti dagli interessi dei profitti delle grandi multinazionali non funziona ma guardate la geopolitica lo Sputnik sul primo sulla prima variante di virus funzionava è documentato a tutte le parti pubblicazioni sull'anset ma qui non poteva entrare non c'era certo la guerra ancora ma anche se fosse la guerra stiamo parlando di interventi che servono per salvare delle vite perché? perché non rispettano il standard di produzione ma sapete benissimo che gli standard di produzione decisi da lei ma riguardano unicamente il mondo occidentale cioè fuori non possono essere rispettati quegli standard di produzione dobbiamo vedere l'efficacia e quanti effetti collaterali hanno se soprano questi criteri devono essere disponibili ma vince la geopolitica Cuba ha prodotto è l'unico paese l'unico che è partita alla ricerca di un vaccino fin dall'inizio pediatrico non ha prodotto un vaccino per gli adulti e poi l'ha girato sul pediatrico un vaccino non ha mRNA ha funzionato perfettamente lo danno dei bambini sui due anni in su gli effetti collaterali sono solo nelle prime 24 ore il dolore alla spalla e il risultato zero qui non entra per motivi geopolitici ma rimaniamo in occidente il vaccino prodotto a Jusso da una fondazione non brevettato perché non arrivi in Europa? perché non si trova un'azienda in Italia o in occidente che sia disponibile a fare da parte nel coiuzzo per la produzione di quel vaccino perché? perché non ti puoi muovere perché qui il controllo deve essere totalmente delle multinazionali americane tedesche che producono vaccini mRNA e questo è il motivo non ce ne sono altri l'occidente deve guardare unicamente in quella direzione sui vaccini eppure stiamo parlando di un vaccino per bambini stiamo parlando di un vaccino non brevettato secondo dei casi ecco allora che ben prima di questa guerra c'era una guerra che si sviluppava sui vaccini per un controllo poi dei mercati perché poi il conflitto vero è Stati Uniti e Cina per il controllo dei mercati internazionali se noi mettiamo il diritto alla salute come elemento universale prima di tutto allora vediamo il mondo con un'altra logica e da noi che cosa succede? lo accenno solo poi chi vuole va a vedere sui siti le nostre pagine eccetera che zitto zitto senza farsi vedere da nessuno l'ufficio brevetti italiani che risponde al ministro Giorgetti il 22 di febbraio proroga di altri 5 anni oltre i 20 i brevetti un brevetto che riguarda AstraZeneca e un brevetto che riguarda Pfizer e Moderna l'abbiamo scoperto in un'indagine coordinata del professor Lorenzo Cassi della Sorbona Università 1 di Parigi e sei giorni dopo il Parlamento votava per l'appoggio alla proposta di moratoria di India e Sudafrica il governo non diceva che zitto zitto aveva prorogato di 5 anni un brevetto un brevetto di quelli iniziali sull'MRNA che come dice Garatini costituisce una porta importante d'entrata nell'utilizzo di MRNA che le nostre aziende non potranno utilizzare nella misura in cui dovranno toccare quel brevetto potranno utilizzare solo in altre modalità più ristrette silenzio andiamo oltre dentro questo scenario scatta il PNRR arrivano i finanziamenti europei si deve puntare sulla sanità come si punta sulla sanità la spesa per la sanità nel 2021 aumentata del 3% rispetto al 2020 ovvio evidente sappiamo tutti di che cosa c'è bisogno bene è uscito il DEF oggi ci sono le prime analisi sul DEF in relazione alle spese sanitarie bene la spesa sanitaria dal 2023 al 2025 secondo le previsioni del DEF in Italia diminuirà dello 0,6% all'anno diminuirà mentre il PIL nominale crescerebbe sempre secondo lo stesso DEF del 3,8% all'anno quindi si taglia sulla sanità ma tutto questo intervento economico dell'Unione Europea non nasce proprio per un problema sanitario ma bisogna aumentare la spesa militare bisogna arrivare in 4 anni ad aumentarla del 50% il 2% del PIL ecco vedete immediatamente quali sono le conseguenze sulla spesa sanitaria e cioè sulla salute questo è il quadro dentro cui ci stiamo muovendo si parla e ci sono tanti convegni che analizzano l'aumento delle disuguaglianze l'altro giorno era Bergamo al Consiglio Nazionale dell'Arci Luciana Castellina ha fatto un bellissimo relazione su scenari di guerra e aumento delle disuguaglianze e è venuta un'idea immediata l'aumento delle la lotta contro l'aumento delle disuguaglianze a livello globale in una era pandemica coincide con la lotta per la sopravvivenza del genere umano non c'è alternativa è così perché se aumentano le disuguaglianze e quindi gran parte della popolazione rimane senza vaccini e senza farmaci perché abbiamo un problema anche di farmaci anche contro il covid e e questo è un aumento delle disuguaglianze ritorneremo nella cosa che dicevo prima sviluppo delle varianti che arriveranno anche da noi e metteranno a rischio l'umanità intera quindi in una situazione mai come in una situazione pandemica la lotta contro le disuguaglianze è fondamentale e coincide con la lotta per la sopravvivenza del genere umano mettiamocelo ben in testa ecco per motivo in più perché è stato giusto scegliere di farla nella camera del lavoro perché qui diventa centrale la lotta per un lavoro dignitoso la lotta per il sostegno sociale e la lotta ovviamente per diminuire le differenze e ci riguardano come operatori professionisti e attivisti della salute e non parlo solo per quanto riguarda i vaccini qui c'è un altro problema questo riguarda anche l'Italia abbiamo acquistato 600.000 dosi dei nuovi farmaci contro il covid ne abbiamo utilizzati meno di 10.000 e rischiamo di lasciarli scadere così come scadono i vaccini che noi abbiamo donato alla Tunisia che noi abbiamo donato a Ruanda e che non hanno potuto utilizzare che hanno dovuto smaltire adesso rischiamo di non poter utilizzare e di smaltire pure i farmaci contro il covid perché non abbiamo strutturato servizio sanitario in grado di poter far arrivare questi vaccini entro i primi 5 giorni dell'infezione ai malati alle persone con fragilità che si sono infettate perché ora che arriva che uno fa il tampone lo segnala al medico di famiglia il medico di famiglia lo segnala all'ospedale l'ospedale li chiama sono passati 5 giorni non li puoi utilizzare perché non si mettono in condizioni i medici di famiglia di poter utilizzare questo tipo di farmaci perché in Italia non funziona un canale di comunicazione tra la medicina territoriale e la medicina dell'ospedale perché non superiamo una concezione ospedalocentrica della sanità è su questo che bisogna lavorare e lo stiamo pagando giorno dopo giorno e finisco perché finisce in tempo a mia disposizione dicendo che da questo quadro arriviamo poi all'oggetto principale della discussione che è la Lombardia qui della salute dei cittadini a chi ci governa non frega assolutamente nulla e guardate che non siamo in fondo al pozzo possiamo precipitare ancora l'amministratore delegato della Sant'Agostino che non è la peggiore azienda sanitaria privata perché finora ha tenuto prezzi bassi perché lavora con associazioni che forniscono cure gratuite e via dicendo ha però pubblicato un articolo su Sole 24 Ore dove chiede a Speranza e sta parlando della Lombardiana che sta parlando di altro non ci sono medici di medicina generale si convenzioni il ministero con strutture private e poi queste strutture private metteranno a disposizione i medici di medicina generale e siccome loro non hanno medici di medicina generale che hanno seguito il percorso metteranno a disposizione un medico con qualunque altra specialità o un laureato a fare il medico di medicina generale garantito dicono loro perché poi ci ho parlato dal fatto che dietro c'è una struttura sanitaria così quel medico svolgerà un servizio pubblico rispondendo a una struttura privata che non avrà difficoltà a trovare ogni forma di incentivo per spingere poi quel medico a indirizzare il paziente verso la filiera privata e così se privatizzi i medici di medicina generale hai chiuso totalmente con la sanità pubblica così come quando vuoi privatizzare le case di comunità allora questa logica del profitto al primo posto rispetto alla salute della salute trattata come merce in Lombardia noi viviamo l'apice dello scontro perché è qui che il neoliberismo oggi pesa più che in qualunque altra parte d'Europa dentro il mondo sanitario è per questo che da tante parti guardano a quello che facciamo noi così come da tutto il mondo guarda quello che fa l'Unione Europea rispetto ai vaccini se cambierà posizione o meno se continuerà con proposte di pura immagine nei fatti rifiutando la moratoria in tutta Italia si guarda a quello che noi riusciamo a fare per contestare bloccare mettere dei bastoni tra le ruote all'applicazione della nuova regge regionale sulla sanità in Lombardia nel 23 mandare a casa questi che hanno provocato dei disastri totali e abbiamo un compito importante che per la nostra sanità può essere un compito epocale di cui dovremo poi in un modo o nell'altro rispondere alle future generazioni grazie bene prossimo intervento è di Angelo Barbato del forum per il diritto alla salute è di là grazie beh dunque io partirò dall'intervento di Vittorio Agnoletto che ha dato degli spunti per approfondire un problema che a mio parere è un problema molto grave molto serio che è venuto a fuori è venuto all'attenzione di tutti in seguito ad alcuni aspetti della vicenda della pandemia e in seguito al problema dei vaccini di cui Vittorio lui ha parlato che però secondo me ancora non è pienamente compreso dall'opinione pubblica e neanche da quelle forze che dovrebbero rappresentare una visione alternativa della salute innanzitutto ecco io sul problema su quel problema che ha sollevato domani io ho scritto scherzosamente ma non ma non tanto ho detto ma guardate che i medici russi non sono venuti ad aiutarci e non sono venuti a rubare i vaccini sono venuti a scoprire i segreti della regione Lombardia di come ha fronteggiato la pandemia i medici questi che cosa può insegnare la regione Lombardia allora grazie ti ringrazio allora il problema che è venuto che è stato evidenziato dal discorso dei vaccini io io prenderò un aspetto di questo problema sappiamo tutti che la ricerca ha sviluppo la ricerca e successivamente alla produzione industriale ha sviluppato in tempi brevi che non sono quelli abituali della ricerca scientifica delle dei vaccini di tipo innovativo e questo tutti se ne sono tutti l'hanno notato però quello che non è stato messo in luce a sufficienza è che questo è avvenuto perché nella ricerca alla base della produzione dei vaccini i governi hanno investito enormi somme e queste somme sono andate in larga misura a finanziare lo sviluppo dei vaccini da parte delle multinazionali private cioè questo ci dice due cose la prima cosa che ci dice è che se se i soldi pubblici vengono immessi in maniera rilevante nella ricerca e nello sviluppo si ottengono risultati ma il secondo aspetto ci dice che in questo momento questi risultati vanno a beneficio dei profitti di un numero ristretto di multinazionali si stima che nel primo anno di ricerca nei primi due anni diciamo di ricerca sui vaccini le principali aziende coinvolte nella ricerca Pfizer Moderna Johnson & Johnson AstraZeneca hanno ricevuto finanziamenti hanno beneficiato di fondi a supporto della ricerca che sono stati stimati in circa dieci miliardi di dollari questi soldi sono stati investiti per sviluppare dei prodotti che poi sono stati brevettati dalle aziende con le conseguenze che diceva Vittorio e che hanno fatto sì che nel duemila e ventuno i profitti delle maggiori aziende farmaceutiche superano delle eh l'azienda che ha avuto più profitti più alti che la Johnson & Johnson ha realizzato in un anno ottantadue miliardi di dollari di profitti poi seguono la Pfizer la AstraZeneca eccetera Donovartis eccetera però questo problema va al di là dei vaccini questo è stato messo in luce dai vaccini ma questo problema mette in luce aspetti strutturali di come funziona oggi la ricerca in farmacologia e di come funziona la produzione e la distribuzione dei farmaci e questo ci fa ci deve far riflettere su tutto il sistema e guardate che le soluzioni specifiche dire doniamo i vaccini e le soluzioni caritatevoli o le soluzioni così di tipo settoriale non funzionano se non si mette mano al modo come funziona il sistema del produzione dei farmaci che e io dico e lo dico è un'affermazione dura ma è un'affermazione che oggi trova spazio nelle riviste scientifiche che in questo momento il modo come funziona l'industria farmaceutica e la produzione dei farmaci è un attentato alla salute pubblica questo è il punto centrale e se non si mette mano a un'offensiva politica su questo noi i problemi ce li trasciniamo che sia chiaro oggi c'è la con io devo dire purtroppo devo dire che la consapevolezza di questo è emersa di più in alcuni circoli scientifici emersa di più in alcune in alcune aree della ricerca scientifica di quanto non sia emerso nelle forze politiche e anche nelle forze sindacali che difendono interessi dei lavoratori vi faccio un esempio il british medical journal che è una rivista scientifica non è una diciamo così un foglio rivoluzionario ha pubblicato un articolo di alcuni economisti tra cui un'economista italiana che si chiama Mariana Mazzucato che lavora in Inghilterra che poneva al primo posto questo quesito non è arrivato il momento di nazionalizzare l'industria farmaceutica e questo lo dicono dei ricercatori nell'ultimo numero di Nature che è un'altra rivista scientifica molto importante più di venti ricercatori di varie università e di varie agenzie inclusa l'organizzazione mondiale della sanità mettono al primo posto il motivo per cui va completamente cambiato il modo come funziona la ricerca per lo sviluppo dei farmaci la distribuzione la commercializzazione dei farmaci perché in questo momento la ricerca viene finanziata prevalentemente da fondi pubblici lo sviluppo dei farmaci viene affidato a delle aziende private che che fanno la parte finale della ricerca quella che serve per la commercializzazione per l'autorizzazione presentano l'autorizzazione agli enti regolatori come le FDA e come l'IMI in Europa hanno l'autorizzazione per il commercio brevettano non solo guardate che oggi le aziende farmaceutiche non brevettano solo il farmaco ma brevettano anche tutta una serie di procedure connesse allo sviluppo del farmaco brevettano le tecnologie necessarie perché il farmaco venga sviluppato e quindi tra parentesi questo voglio dire anche se il brevetto del farmaco venisse tolto o sospeso oggi si parla di sospensione molti paesi non sarebbero comunque in grado di produrre il farmaco perché non hanno l'accesso alle tecnologie alle infrastrutture necessarie perché la produzione venga avviata allora questo pone per noi europei e italiani un problema all'ordine del giorno che è venuto il momento politico perché si faccia una battaglia perché si costituisca una agenzia pubblica un'agenzia pubblica a livello europeo a livello italiano c'è una proposta che è presente a livello che è presentata al Parlamento europeo che chiede di prendere in considerazione questo aspetto tra l'altro noi organizzeremo nel mese di maggio un dibattito con l'estensore di questa proposta che è un professor Florio dell'Università di Milano insieme ad altri economisti di altri paesi europei e la proposta è che ci sia un'agenzia pubblica e che questa agenzia pubblica si occupi di tutto il ciclo dalla ricerca allo sviluppo alla produzione alla distribuzione e alla ricerca post mercato perché ricordiamoci che oggi le ricerche finanziate dalle aziende farmaceutiche sono finalizzate sono ricerche che si svolgono nella fase preliminare rispetto alla richiesta di autorizzazione nel commercio quindi per avere l'autorizzazione alla commercializzazione le aziende poi non non investono più su ricerche che cosiddette post marketing che sono ricerche molto importanti perché verificano quello che succede nel mondo reale perché mettono in luce effetti avversi ed effetti collaterali che gli studi clinici controllati pre-autorizzazione non possono evidenziare perché sono per necessità studi di piccole dimensioni di breve durata e devono essere eh supplementare devono devono esserci conoscenze supplementari per vedere cosa succede nel mondo reale e questo sottolinea quindi una un aspetto di inter di importante di intervello pubblico di intervento pubblico quello a supporto della ricerca indipendente ricerca indipendente dalle dalla dalle aziende farmaceutiche indipendente dalle multinazionali finanziata con soldi pubblici questo è una questa è una cosa possibile che in settori diversi è stata anche fatta però teniamo conto che qui questo problema significa aprire una battaglia con uno dei settori industriali più agguerriti e più che in questo momento hanno un margine di profitto maggiore perché l'industria farmaceutica è stata identificata nelle ricerche che sono state fatte è uscita una su Forbes come il settore in questo momento che genera il margine di profitto maggiore quindi si deve andare su questo necessariamente a uno a uno scontro e guardate una cosa guardate che noi ci troviamo qui di fronte a un paradosso che ci fa capire la subalternità dei poteri pubblici dei governi rispetto alle multinazionali farmaceutiche perché guardate che in Europa parliamo dell'Europa parliamo dei paesi dell'Europa occidentale nell'Europa occidentale i sistemi sanitari nazionali sono praticamente un acquirente unico in Italia il servizio sanitario nazionale è di fatto un acquirente unico dei farmaci cioè i farmaci in Italia li compra il servizio sanitario nazionale ma nonostante questa posizione di acquirente unico l'agenzia italiana del farmaco non negozia in maniera sufficientemente adeguata i costi dei farmaci con le multinazionali è stato stimato che i nuovi farmaci vengono immessi sul mercato con margini di di costo che che coprono del quasi del cento per cento e più i costi di produzione quindi con margini di profitto che non sono giustificati e se anche venissero ridotti sarebbero comunque dei margini di profitto più che accettabili per un'impresa ma il governo in questo caso il nostro governo ma questo accade anche negli altri paesi europei non è non negozia in maniera adeguata con le industrie farmaceutiche e subisce il ricatto delle industrie senza considerare che sono i soldi pubblici che finanziano le ricerche in base alle quali i farmaci vengono sviluppati e quindi la quella economista italiana che lavora a Londra Mariana Mazzucato ha detto ma noi i farmaci li paghiamo due volte li paghiamo perché la ricerca attraverso cui i farmaci vengono prodotti è una ricerca che viene fatta con fondi pubblici e li paghiamo due volte perché poi li compriamo e li compriamo a prezzi che sostanzialmente sono stati stabiliti dalle dalle multinazionali quindi il problema non riguarda solo i vaccini riguarda tutto il complesso dell'industria farmaceutica e io credo che questa rivolta che sta emergendo anche nel mondo scientifico su mi insegnali quando mi è rimasto un minuto me lo indichi due minuti va bene tutta questa protesta che viene dal mondo scientifico ci deve far capire che siamo nella siamo c'è la possibilità di formare una coalizione una coalizione per la salute pubblica che metta assieme i ricercatori che metta assieme gli operatori sanitari che metta assieme i cittadini i rappresentanti dei lavoratori e quelle forze della società civile che si battono nella prospettiva che diceva Vittorio per il diritto alla salute e questo è una cosa importante è una possibilità importante che coniughi la necessità la ricerca indipendente che sia orientata da bisogni di sanità pubblica perché le industrie farmaceutiche non investono sui problemi più rilevanti per la sanità pubblica se non come è avvenuto ora per i vaccini a fronte di un enorme investimento di denaro pubblico di cui però il pubblico non non ha non ricava i benefici quindi quindi si si diciamo così si socializzano le spese e si privatizzano gli investimenti che vengono affidati al pubblico ma si privatizzano i profitti questo meccanismo deve essere spezzato e deve essere spezzato attraverso il tipo di alleanze che io dicevo e che tenga e chiudo su questo tenga conto che sono quattro problemi principali che vanno superati per mettere la produzione dei farmaci al servizio della salute pubblica sono primo che la ricerca deve essere indirizzata dalle priorità per la salute pubblica oggi nessuno fa ricerca per esempio sulle malattie tropicali che affliggono la grande maggioranza delle popolazioni del mondo ci sono dei settori che la ricerca privata dell'industria ha abbandonato malattie del sistema nervoso centrale per esempio il problema della resistenza agli antibiotici sono settori che sono stati abbandonati secondo punto l'azienda l'industria farmaceutica si è diventata un settore finanziario le aziende investono ma i loro investimenti non sono primariamente legati all'innovazione sono investimenti che sono finalizzati al marketing e quindi alla produzione e alla commercializzazione di farmaci che hanno margini di efficacia molto modesti rispetto ai farmaci esistenti che però attraverso il sistema dei brevetti vengano presentati come se fossero farmaci nuovi non più del 15-20% dei farmaci autorizzati dall'FDA negli Stati Uniti e dall'EMA in Europa sono in realtà innovazioni oppure le aziende investono nel riacquisto delle proprie azioni le aziende la Pfizer la Sanofi la Novartis investono riacquistando le proprie azioni per farne aumentare il valore questo è diventato un settore di speculazione finanziaria i cui legami con la salute pubblica sono sempre minori allora approfittiamo di questa ondata di indignazione che è venuta fuori dal problema dei vaccini dal problema dell'assurdità dei brevetti che sono un ostacolo creano un sistema di monopolio che è un ostacolo all'innovazione un ostacolo alla ricerca scientifica perché non c'è trasparenza né sulle procedure né sui meccanini della ricerca né sulla struttura dei costi né sulle modalità di produzione quindi noi chiediamo trasparenza ricerca indipendente equa valutazione dei costi di produzione prezzi equi e sostenibili questo noi chiediamo chiediamo che ci sia un controllo pubblico della di tutto questo settore è il momento perché se se ricercatori prestigiosi in Italia per esempio Perattini si è speso su questo che è un farmacologo molto importante se ricercatori prestigiosi stanno facendo questo allora noi come forze sociali e politiche che rappresentiamo la difesa della salute pubblica dobbiamo cogliere l'occasione per creare questa alleanza e su questo io chiudo bene adesso un intervento in rappresentanza anche della rabbia dei medici in medicina generale quindi parlerà Valerio Marsala delle coccarde gialle che hanno recentemente manifestato appunto la loro rabbia alla regione Lombardia per la deviazione e compressione del loro ruolo nell'ambito della tutela della salute innanzitutto buongiorno a tutti spero di essere sufficientemente rabbioso allora sono Valerio Marsala sono medico di medicina generale di Milano e sono un coordinatore di rete territoriale cioè vuol dire il Milano è stata suddivisa in municipi ogni municipio ha con il municipio quattro è il mio municipio ha una serie di coordinatori sotto di noi ci sono cinquantacinque quaranta medici di medicina generale questo è un po' per delineare il quadro questi coordinatori sono nati in piena epidemia pandemia e il ruolo del coordinatore era quello di fare da tramite tra la TS l'azienda della tutela della salute e i medici di medicina generale sul territorio quindi siamo nati in corsa non sapevamo bene che cosa fare però poi dopo l'abbiamo capito eravamo dei capri espiatori per cui niente da una riunione quasi da bar se non condominiale è nato un po' un gruppo un gruppo che ha deciso di dire salviamo la medicina generale in maniera molto presuntuosa però poi nel frattempo abbiamo visto che qua e là il malessere aumentava e specialmente in Toscana sono nate queste cocarde gialle per cui ci siamo anche noi appropriati di questo simbolo per che abbiamo capito che insomma unirsi poteva essere semplicemente la via per uscire da questo disagio se non altro che ci comunicavamo nelle varie chat in pieno periodo pandemico perché c'è stata la disperazione la disperazione della solitudine dei ritardi istituzionali nel cercare di coordinarci e quindi come dicono tutti la pandemia è stato un momento in cui ha svelato il dramma della disorganizzazione della medicina territoriale di cui noi siamo pienamente testimoni della prossima per cui così ho provato a immaginare qual era il nostro stato d'animo e mi sono sentito molto come quei barattoli perché in tutto questo è stato un po' un gioco al massacro chiunque passava di lì a Luna Park si sfogava tirando verso la medicina generale il proiettile e quindi niente questo era la nota di pessimismo iniziale anche perché con tutto quello che ho sentito questa mattina in effetti non è che ci sia molto da stare allegri e qui io vi porto su una realtà molto più di base come spesso veniamo chiamati noi che siamo invece medici delle famiglie e ancora per spendervi due parole per dire di questo movimento trasversale che non aveva delle finalità sindacali né di appartenenza a un gruppo politico abbiamo siamo tante teste pensanti e io credo che sono stati bellissimi gli interventi precedenti perché è tutto fatto in funzione di chiudere queste teste pensanti chiudere questi rubinetti del pensiero perché è da fastidio e per cui noi vorremmo fare un po' le persone che tirano la giacchetta di chi si può sedere ai tavoli aziendali per cercare di dare delle idee delle idee che ci vengono dette che sono state dette e ridette ma evidentemente comunque o erano i momenti sbagliati oppure sono state patteggiate in maniera sbagliata e la pandemia come vi dicevo prima è stato un fattore di aggravamento ma in realtà lo svilimento della medicina generale era ben precedente noi lo conoscevamo la pandemia l'ha reso molto più eclatante e allora noi diciamo una delle nostre premesse di questo movimento che salviamo la medicina generale con carde gialle appunto anche per unirci alla nazione è il capitale umano cioè qui l'investimento è tutto su altre cose ma non sulle persone che fanno parte e che sono la vera architettura del sistema sanitario nazionale il sistema sanitario nazionale non vive di edifici di contenitori ma vive di contenuti di persone che hanno tutti i limiti hanno tutti i loro difetti si nascondono è molto difficile praticare specialmente quando ci sono quelle immagini come vi ho proiettato di un tiro al barattolo e quindi la nostra è una lotta alla demonizzazione mediatica perché chiaramente distruggendoci voi non avrete più nessun controllore il medico di famiglia è un consulente quando io mi vado ad assicurare non so che cosa fare quando io investo in borsa non so cosa fare sempre che mi siano rimasti dei soldi ma avere una persona che ti consiglia che è al di fuori delle parti che non ha degli interessi economici è essenziale questo bisogna capirlo perché se no ci fregano come vogliono adesso frasi come ci fregano come vogliono è sempre un po' difficile perché poi vedi sempre dietro però parliamo di noi cosa vorremmo fare la riforma del territorio ci sono c'è la legge Balduzzi da cui è partito e ci sono queste aggregazioni funzionali territoriali che adesso sono questi centri di rete territoriale ma noi siamo stati ancora diciamo tenuti in carica tra virgolette fino a giugno e poi probabilmente ci cambierà il nome e cambieranno le persone e verranno scelte non si sa bene in quale maniera però quello che vogliamo dire è che come al solito chi fa queste riforme non tiene presente della quotidianità dei nostri problemi ma non perché dobbiamo risolvere i nostri ma perché dobbiamo risolvere i nostri problemi perché siamo tutti investiti da questo io stesso mi sento un utente e ho paura invecchiando di quello che potrà succedermi come paziente da qui ai prossimi anni e poi la mancanza totale e qui in effetti io mi giro ma giovani medici non ce ne sono adesso forse è colpa nostra che non li abbiamo saputi coinvolgere però noi abbiamo l'esigenza di un cambio generazionale e di portare avanti un messaggio ad altri io ho il piacere di insegnare nel territorio e amo molto approcciarmi con i giovani colleghi per cui è una cosa che sento molto importante di trasmettere un messaggio e sinceramente non so cosa andargli a trasmettere perché prossimamente nel mese di maggio io parlerò ai giovani del quinto anno di università della clinica medica per dirgli qual è la medicina del territorio ma sinceramente non so quale parole tirare fuori un po' perché siamo in un momento di passaggio un po' perché una pandemia non è un raffreddore io quindi lo posso capire che scaricare su altri alcune situazioni non sia anch'io al posto di altre persone avrei avuto delle serie difficoltà però è un momento di grande confusione come uscirne da questa confusione non soltanto col pianto e con le lamentere ma con il fatto di dire noi abbiamo dei comuni intenti saranno vecchi saranno da riportare però li vogliamo uno stimolo per i maggiori sindacati che si devono ripresentare ai tavoli aziendali e non devono far finta che i problemi non ci sono e poi quello che bisogna smettere assolutamente è una guerra fra proveri anche nella nostra categoria ci hanno messo l'uno contro l'altro perché è molto facile facendo così distruggono una categoria hanno distrutto tutte le libere professioni perché sono cervelli non sono macchine da vendere e quindi è molto facile fare così dare l'impressione che non c'è più importanza dell'uomo che ti consiglia è il miglior modo per portare avanti tutti i vari discorsi che abbiamo fatto prima su quello che vogliono spacciare per cui io non ho assolutamente voglia e sono forse uno dei più accaniti in questo senso nell'ambico di questo coordinamento di salviamo la medicina generale di fare la lotta con gli altri tutti abbiamo dei problemi bisogna capire quali sono il pronto soccorso sicuramente non il problema del pronto soccorso non li sorvi uccidendo la medicina del territorio anzi e poi ci sono due punti c'è la medicina del territorio i medici di famiglia e il pronto soccorso quando non si sa cosa fare è rivolgiti al medico curante che ti risolve tutti i problemi oppure buttati in pronto soccorso ma ci sono delle vie di mezzo c'è un vuoto assoluto tra la medicina generale e la medicina dell'ospedale ci sono gli specialisti ambulatoriali si deve fare una santa alleanza e in quale meglio dell'ordine dei medici che dovrebbe raccludere tutte le figure dei medici può sostenerci e poi il dipartimento delle cure primarie sono i nostri primari e io li vorrei avere più presenti non vorrei soltanto un gioco al massacro della serie armiamoci partite semplificare tutte le procedure per la loro complessità sottraggono tempo alla clinica questo è la nostra vera battaglia vogliamo ritornare a fare i medici non vogliamo fare delle cose di cui io adesso cerco di non entrare troppo nel merito questo è il nostro scopo non so quanto ci arriveremo in forma visto che l'età avanza ma dobbiamo sapere anche quel testimone quale sarà il futuro della medicina territoriale ma il medico di medicina generale andrà incontro a un'estinzione scherzosamente io dico che siamo dei panda che magari invece sono nel frattempo molto più moltiplicati di noi perché sono stati preservati possiamo parlare di mobbing io tutti i giorni mi confronto con generazioni di cinquantenni che sono stati mandati fuori dal lavoro con un semplice sms quando gli è andata bene e adesso mi sento un pochettino vicino ancora di più in empatia con queste persone ho imparato a soffrire perché è un carico per noi non è soltanto un carico delle malattie è anche un vissuto delle persone che ci vengono a raccontare adesso non voglio essere troppo deamicisiano in questa in questa descrizione però facciamo anche questo e io mi sento messo lì in disparte come per dire tanto non servi mettiti di lì a giocare con le matite tanto tra qualche anno te ne vai in pensione però piccolo particolare che agli altri qualche piccolo incentivo economico per sbatterli fuori glielo danno a noi probabilmente neanche quello cosa prevede la futura organizzazione cioè almeno capire dove andiamo a parare la domanda di assistenza è enorme perché l'hanno gonfiata perché in tutto c'è la lotta a fare la mock a fare la risonanza al togliti di mezzo che comunque tanto c'è l'attività strumentale è colpa anche di noi ed è per questo che serve secondo me un consulente anche della sanità se spesso vogliamo assaltare questo ostacolo e andare direttamente all'attività strumentale è stata colpa nostra perché non ci sono più le teste ci sono gli strumenti e pensiamo che la medicina venga fatta soltanto in base alle cose strumentali e quindi quando c'è tutta una campagna si parlava dei farmaci ma i farmaci sono nell'ambito della medicina generale molto poco perché ormai lavoriamo con gli soliti quattro farmaci che costano veramente due lire quindi non è quello il problema sono i nuovi farmaci chemioterapici che sono stati messi in commercio che noi non utilizziamo assolutamente e che spostano ahimè magari la sopravvivenza di 20 giorni e costano delle cifre esagerate quando a un certo punto bisogna capire quanto il gioco vale la candela su queste cose ma adesso non voglio entrare nel merito però quello che voglio far capire è che comunque è difficile districarsi in questi problemi ecco la siamo saltati di uno ok allora quindi l'eccesso di richiesta è indotto dalla società noi abbiamo una pressione mediatica non è cosa semplice nel nostro piccolo ambulatorio combattere contro i mulini a vento e c'è una logica ovviamente commerciale in questa induzione e dall'altra parte però ci dicono ma siete voi che prescrivete troppo allungate le liste d'attesa ma non sono problemi così facili come dirli a quell'ora quello che dico io è puntiamo sulla formazione che non conviene perché costa ma poi perché cosa per acculturare delle persone che tanto le vuoi anche buttare fuori dal sistema sanitario nazionale tempo perso tanto siamo dei deficienti a questo punto invece c'è anche un indotto prescrittivo non voglio fare la battaglia appunto detto prima io voglio assolutamente che tutti i medici si seguono a un tavolo però indubbiamente tutti anche i libri professionisti dobbiamo capire che ogni medico che prescrive ha una sua responsabilità non puoi tu nel tuo cantuccio privato dire fammi questo questo e quest'altro e fare delle liste come è stato per i vaccini di quelli che non volevano fare i vaccini e che venivano con delle liste che erano fatte dagli avvocati cioè lavorare in questa maniera è veramente impossibile allora bisogna avere un coraggio noi abbiamo dei livelli essenziali di assistenza i cosiddetti LEA che sono molto antipatici sono brutti ma bisogna anche capire e sono i tipici per cui a un certo punto uno dice io ho pagato le tasse voglio che venga fatta una determinata cosa questa è una frase che diciamo tutti come ma lei non sa con chi sta parlando sono i nostri classici però non ci possiamo illudere che tutto ci sia dovuto e qui c'è veramente un discorso di diritti e doveri ma da parte dei professionisti da parte dell'utenza e ci vuole un messaggio forte dei cittadini il coraggio di dire del buon senso alla fine del mese il buon padre di famiglia sa quali sono le entrate e quindi sa che non è che ci possiamo permettere il viaggio alle Maldive tutti quanti sono delle banalità però intervengono sulla nostra quotidianità e a questo punto uno dice ma vogliamo recuperare l'aspetto clinico del medico di medicina generale o lo vogliamo mantenere un controllore di spesa e questo è il fondamento perché noi stiamo facendo i ragionieri da io lavoro da più di 30 anni veramente è stato un crescendo se io penso che io lavoro su 1500 pazienti di più ma quando ho iniziato c'era il famoso medico della mutua con Alberto Sodi che ne aveva 3000 eppure io credo che quei medici avevano possibilità di praticare ancora di più nonostante lavorassero per tante persone ma perché secondo me è 2000 o 3000 quello che è a due minuti ok allora è lunga la cosa comunque io voglio che un medico preparato anche come futuro utente coordinato con gli altri colleghi che abbia dei riferimenti seri di partimentali e che usufruisca di messaggi chiari governativi il movimento è una locomativa in corsa e spero che sia difficile fermarla siamo passati da periodi in cui ma è a discrezione del suo medico curante vada pure che se vuole glielo può fare che è una delle fasi più distruttive che esistono al mondo alla disperazione alla necessità di una chiarezza e a una disillusione come dicevo prima di sapere dire veramente su che cosa possiamo contare e la determinazione da parte nostra di quello che possiamo fare la protesta ecco qui io non voglio entrare nel merito qui c'è il pianto c'è il pianto dell'informatica di tutti i lunedì mattina che non funziona mai di 15 portali che noi dobbiamo adottare con 15 password diverse tutta una dispersione di tempo ma voglio dire voi pazienti vedete usati come dei messaggeri per passare da noi allo specialista e dallo specialista a noi mentre invece dovremmo essere noi i vostri consulenti che parliamo con gli specialisti non dico che voi ve ne state a casa ma cerchiamo di essere dei mediatori non vogliamo metterci sinceramente a misurare la seduta di una poltrona della carrozzina piuttosto che dire il pannolone piuttosto che la traversa cioè bisogna recuperare un ruolo io non è che voglio essere spocchioso ma non ho studiato sei anni per misurare dove si mappoggia il sedere di una persona e poi ci sono delle cose specifiche che però interessano meno come per noi potrebbero benissimo velocizzare i tempi della nostra attività la certificazione riuscire a dire ma deve essere per forza fatto il paziente mi chiama dalla macchina per dire che è stato male e sta tornando a casa e ha già bisogno del certificato i farmaci cronici ma perché noi dobbiamo continuamente venire a ripetere delle prescrizioni si inventano i piani terapeutici ma per noi dovremmo avere un piano terapeutico collettivo di tutte le nostre medicina e andare in farmacia a prendercelo poi se cambia delle situazioni cliniche interveniamo in tal senso e poi perché fare scomparire la medicina legale l'igiene pubblica cioè farci fare tutto io capisco che siamo bravi però a questo punto allora che cosa siamo siamo bravi o possiamo fare tutto o allora ritiriamo fuori queste cose che sicuramente ci devono aiutare nella nostra attività lavorativa localmente dobbiamo ritornare appunto alla formazione e veramente avere un coordinamento di rete serio con tutti gli specialisti e con tutta la TS e qui c'è un nodo molto importante il rapporto sanitario pubblico e privato noi abbiamo siamo pieni città come Milano toccano sul vivo di questa situazione noi abbiamo centri che cosa sono sono privati o sono pubblici quando c'è da avere le responsabilità sono privati essi si defilano e quando c'è da prendere i soldi sono pubblici tu entri in un istituto la prima volta ci entri col sistema sanitario poi casualmente poi dopo scompari queste sono cose che ce le dobbiamo dire io non voglio demonizzare il privato però bisogna avere sempre il coraggio delle cose dobbiamo capire sei privato allora te ne devi assumere la responsabilità non è che poi dopo quando c'è la rogna allora sbatti nel pronto soccorso dove ci sono dei giovani laureati che rischiano tantissimo tra cui mia figlia è sinceramente mirosica questa cosa e non devono andare nessuna una a discapito dell'altra cioè bisogna avere il coraggio allora le critiche sono molte qui vi ho messo tutte così potete sfogare sul finale e impallinarmi per cui non sono siamo certamente da beatificare questo non ci credo come tutte le categorie professionali abbiamo le mele marce ci mancherebbe però non siamo gli unici non siamo i peggiori veniamo accusati di guadagnare tanto fare poco e richiedere ingiustamente soldi per i certificati ma io non vedo fuori dalla porta file di persone che vogliono fare il nostro mestiere e quindi questo mi brucia un po' perché dico ma se fossimo veramente così ma non ci sarebbe la gente fuori che farebbe la fila per fare il nostro mestiere siamo irreperibili ci siamo sottratti durante l'epidemia siamo inutili perché ormai si può passare direttamente agli specialisti senza perdere tempo e qui vi lascio il vostro commento non spetta a me commentare ma di subire appunto ancora una volta l'impallinata del Luna Park vi ringrazio per l'attenzione bene grazie adesso passiamo all'intervento di Elisabeth Cosandey che entrerà nel merito di alcuni aspetti territoriali così come stanno avendo avanti in particolare delle case della salute o della comunità che dir si voglia buongiorno a tutti come ha detto Marco e faccio parte di un coordinamento nato con la campagna Dico 32 che si trova sul territorio di Meleniano Martesana e qui in sala vedo anche altri compagni di questo nostro comitato che ha cominciato a lavorare più di un anno fa che ha fatto varie manifestazioni assistito a tutto le campagne quello che si è fatto a livello regionale quindi ci convochiamo regolarmente via web e ultimamente è stato prodotto anche un giornale di zona quindi direi che abbiamo un costrutto e una voglia di aggredire i problemi di sostenere la sanità pubblica e soprattutto di pensare che senza la partecipazione sui territori con la regione Lombardia che ci ritroviamo credo che le cose buone e giuste che dovrebbero realizzarsi saranno proprio delle chimere e noi abbiamo il segnale di questa cosa qua perché abbiamo battuti ci siamo battuti per la non approvazione della legge 22 che è stata approvata avevamo una qualche lieve speranza in un ministero della salute che avrebbe tenuto il punto e questo non è avvenuto vediamo che adesso il nostro assessore va a batteggiare le case della salute ad essere a manga che non sono case della salute e poi per ultimo e questo forse ne parlerà una compagna di un altro comitato di zona a Milano per fare le case della salute si va a fare sloggiare dei servizi funzionali e sul territorio quindi i consultori quindi i servizi di neuropsichiatra infantile quindi noi abbiamo una cosa che è scandalosa e dire poco cioè questi servizi che operano in luoghi fisici sono luoghi di cura o sono dei cappannoni di Amazon che si può spostare al piacere della logistica che esiste in altri settori ma non dovrebbero esistere in sanità e quindi i cittadini o si riappropriano della loro dignità del fatto che hanno dei luoghi dove possono recarsi e ottenere delle risposte oppure siamo delle banderuole e noi banderuole non vogliamo essere adesso devo comunque fare alcune riflessioni con voi su degli elementi che rendono difficili anche un lavoro coscienzioso di cittadinanza uno è quello che succede agli operatori che lavorano in sanità che hanno il divieto il divieto di parlare delle criticità che tutti i giorni incontrano nel loro lavoro e questo è proprio un'azione repressiva che a noi ci viene poi a mancare degli elementi di conoscenza e degli elementi anche di alleanza tra utenti una brutta parola utenti cittadini e lavoratori quindi una separazione e questo è un primo elemento il secondo elemento pensando sempre a chi lavora in sanità e io ho lavorato 40 e passi anni in sanità quindi lo so chi vuole curare delle persone chi sceglie un lavoro che ha che fare con delle persone delle persone che in quel momento non hanno una forza contrattuale quello che ti viene è di farlo bene di avere la facoltà di usare tutti gli strumenti che hai a disposizione è il tempo giusto per metterle all'opera per il bene della persona che hai lì davanti se queste cose ti vengono frustrate compresse ostacolate capite che nell'interiore del lavoratore della sanità succedono tante cose o se ne fregano si inrigidiscono si disumanizzano o stanno male o fuggono è quello che è quello che avviene adesso andate a vedere non più le piante organiche ma andate a vedere i contingenti di personale negli ospedali vedete quanti dimissioni alla settimana e dove vanno andranno nel privato dove forse delle forme contrattualistiche sono diverse non lo so ma comunque sempre tanti sono ed è un bacino che si sposta dal pubblico al privato privato al privato low cost alla carta e questo è il secondo elemento mancanza di motivazione e di sostegno nei posti di lavoro terzo elemento e questo tocca a noi noi alla cittadinanza siamo stati diseducati con la parità pubblico privata ho un esame dove vado? eh non lo so un laboratorio il sinlab senza appuntamento domani mattina la risposta l'indomani perché dovrei prenotarlo all'asla cioè questo è solo un esempio quindi questi tre elementi sono di ostacolo al lavoro che dobbiamo fare passo adesso alla cosa che volevo diciamo spiegare meglio che è il discorso delle case della salute se ne avessimo dovuto parlare un anno fa avremmo tirato fuori il modello chiave in mano il modello ideale perché sapevamo un edificio bello grande accessibile moderno dove dove dentro trovi tutto dall'accoglienza e questo è vero che è un momento importante che invece di fare il giro delle cento chiese per sapere le prestazioni dove andare a chiedere il servizio giusto dove andarlo a trovare nell'accoglienza dovevi avere il filtro l'indirizzo l'informazione e anche una prima raccolta di dati quindi l'accoglienza è un momento importante dovevamo avere la ricompattazione della medicina generale e quindi medici che lavorano insieme e quindi possono aprire la loro attività per molto più ore al giorno e la specialistica ambulatoriale la specialistica ambulatoriale in qualche poliambulatori delle nostre zone ci sono ancora ad esempio Meleniano Martesan 13 poliambulatori su questi 13 solo 6 hanno la cardiologia e solo 2 hanno l'ortopedia solo esempi eh tutto il resto è stato spostato in ospedale e questo dovrebbe ritornare nelle case della salute perché giustamente bisogna unire la medicina generale e la specialistica dovevano e devono essere organizzate le cure domiciliari e questo che cosa vuol dire vuol dire che il percorso di continuità assistenziale avete già sentito questo nome sì in tutti i documenti ne parliamo sempre di questa cosa no? della continuità assistenziale invece non c'è sono buchi 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 che vuol dire dimissioni precoce soprattutto se la persona è anziana perché il primario fa pressione ma tu il tuo parente non te lo vuoi portare a casa ma che figlio indegno che sei quindi pressione perché il posto letto bisogna farlo girare e dimissioni servaggio e dopodiché quando tu torni al domicilio devi fare una fatica perché cosa devi fare? rivolgerti all'ufficio fragilità ufficio fragilità non riceve il pubblico solo telefonate da una certa ora a una certa ora se salti il turno aspetti domani cosa ti succede? ti prenderanno nota della del tuo bisogno e dopo avrai in mano l'elenco delle cooperative sempre che tu ti sai arrangiare dentro questa babele di cooperative quindi la casa della salute almeno noi dovremo anche aggredire questo aspetto perché è un aspetto molto rilevante proprio di eh fare questa filiera cioè proprio di continuità e la dobbiamo proprio creare questa cosa qui quindi il nostro lavoro sul territorio comincia da che cosa? Comincia dalla fatica che si fa per quando scrivi alla direzione generale direzione sanitaria direzione sociosanitaria non hai risposta prima cosa questo fatto non si accetta bisogna battere finché avremo la possibilità di essere ricevuti perché noi se andiamo a un incontro abbiamo da una parte studiato tutto quello che sono i dati ufficiali dell'azienda io vi posso dire e questo è stato scritto nel giornalino sui tempi d'attesa quindi sappiamo già fare delle richieste in questo senso sul modello delle cure domiciliari noi sappiamo cosa andare a chiedere sappiamo che prima delle dimissioni il servizio sociale ospedaliero le caposali devono avere nel loro modus operandi il fatto che sul territorio e nel distretto ci deve essere la centrale operativa che poi farà il ponte tra l'ospedale e il territorio noi siamo in grado di andare a negoziare con l'azienda su dei problemi altro esempio che noi abbiamo avuto e c'è a Milano ma c'è dappertutto l'esigua possibilità di cura per i bambini che hanno bisogno di nero psichiatra infantile questo perché perché questo servizio che era squisitamente territoriale e operava nelle scuole nei doposcuoli negli oratori a sostegno delle famiglie si è rinchiusi in ambito specialistico allora lì per forza le liste d'attesa ci sono perché se devi aspettare la prima visita da un neuropsichiatra aspetti e a seguire l'iter diagnostico e a seguire l'iter terapeutico e sui bambini un anno è troppo non è come un adulto ma sui bambini crescono che le che le vedi insomma più anni perdi peggio è e la prognosi è sempre più sfavorevole invece ci sono delle cose che si possono fare direttamente nelle scuole perché non si fanno non si richiede molto organico in più si richiede una riorganizzazione e modalità operative che pensano e questo è il punto che è il nostro punto di forza noi pensiamo non singolo noi pensiamo comunità e quindi è di nuovo una cosa che sul territorio deve ritornare proprio quell'idea di comunità e direi che la casa della salute non l'avremmo chiave in mano però chi ci impedisce comunque di fare delle proposte di occupare dentro un poliambulatorio dentro una sede dell'ASL la possibilità di riunire il coordinamento perché non fare interventi di prevenzione su problemi alimentazione attività fisica e in primis ancora noi dobbiamo ottenere che quest'autunno prossimo con recrudescenza di pandemia saremo avremo informazioni sicure avremo un impianto su come monitorare il fenomeno avremo i riferimenti dei professionisti chi deve intervenire prima dopo eccetera e quindi questa è una prima richiesta che forse noi non ci dobbiamo dimenticare quindi direi che è con la partecipazione che forse una solida partecipazione che riusciremo forse a vedere realizzare una medicina umana prima di tutto al nostro servizio e e quindi dalla partecipazione al senso di comunità risaliremo a una programmazione di un sistema coeso trasparente condiviso buon lavoro bene continuiamo sulla falsa riga della comunità e quindi dell'azione dei comitati con Nadia Riva che si presenta da sé no dai ce la facciamo tolgo questo se no non ci vedo niente io parlo a nome del comitato di difesa sanità pubblica della zona sud ovest di Milano città metropolitana quindi parliamo fondamentalmente della zona e del municipio 5 6 7 eh volevo parlare di quali sono ricadute della politica sanitaria della regione Lombardia anche a seguito della nuova legge 22 sui territori di Milano città metropolitana già dalle prime riforme si sente un po' più su vediamo così così va meglio già dalle prime eh riforme sanitarie si è assistito più su così si è assistito ad un lento sempre più rapido del potenziamento della medicina territoriale pubblica si è verificata nel tempo una riduzione dei servizi sanitari in generale la chiusura di poliambulatori pubblici lo svuotamento dei consultori che hanno perso la funzione per cui erano nati lo smantellamento dell'assistenza domiciliata che è attuata in gran parte da cooperative e fondazioni ad eccezione di una minima parte esercitate da due RSA della zona 7 lo spostamento dei servizi territoriali all'interno degli ospedali in una versione ospedalocentrica dei servizi lo spostamento e o la rotazione del personale sanitario degli ospedali nelle strutture sanitarie decentrate la carenza di personale sanitario in tutte le strutture comprese gli ambulatori tutto questo a vantaggio dei privati verso cui si sono si stanno spostando le risorse destinate alla sanità la giunta Morati e Fontana ha avuto molta fretta e ce l'ha ancora dimostrare la propria efficienza e tempestività nell'istituire le case di comunità era quella che diceva Elisabeth prima vuole convertire le strutture già esistenze funzionanti nei territori e a volte dismettendo i servizi attivi già da anni è quello che è successo con la casa della comunità di Via Rugabella di Villa Marelli e peggio ancora quello che sta accadendo in zona 7 con la casa di comunità di Via Morreale il Consul è il Via Morreale è sede di un consultorio un consultorio familiare integrato che offre un servizio multifunzionale multiprofessionale è nato con fondi destinati e vincolati specificatamente per quello scopo fa parte dell'unità operativa in cui ci sono altri 4 consultori della stessa SST che è l'ospedale San Paolo e San Carlo uno nel municipio 7 uno nel municipio 6 e due nel municipio 5 ma il consultorio di Via Morreale riceve quasi il 40% dell'utenza di tutta l'unità operativa questa comunque la dice lunga è veramente un consultore molto bello anche dal punto di vista della struttura nuovissimo moderno eccetera però è stato concentrato tutto lì svuotando gli altri 4 consultori di servizi e di personale e quindi ci sarebbe anche da discutere perché hanno concentrato tutto lì la regione Lombardia e la SST Santi Paolo Carlo alla faccia delle tante dichiarazioni pubbliche sull'importanza della medicina territoriale hanno deciso di spostare in modo più o meno temporaneo il consultorio familiare di Via Morreale all'interno del settimo piano dell'ospedale San Carlo con la falsa promessa di riportarlo sul territorio una volta terminati i lavori della sede di Via Morreale parliamo di circa un milione di euro di lavori è chiaro a tutti che anche con i nuovi spazi che ci saranno non è possibile avere gli stessi servizi di prima dovendo convivere con quelli della casa di comunità se poi la casa della comunità dovesse essere quello che aveva spiegato prima bene Elisbet tenuto conto che su 16 stanze il consultorio dovrebbero ridare agli ne sei come se non bastasse oltre quindi alla vicenda del consultorio l'Uompia l'unità operativa neuropsichiatrica psicologia infantile adolescenza di Via Vandiltelvi a Baggio in Via Remolavalle Lorenteggio Zabellino saranno trasferite all'interno dell'ospedale San Carlo come già avvenuto per quello di Via Tibaldi spostato all'ospedale San Paolo questo servizio per la fragilità dell'infanzia e adolescenza viene allontanato dai territori di competenza per decisione della SST Santi Paolo Carlo l'Uompia è un servizio per la presa in carica del minore e per la gestione dei bisogni di cura e salute neuropsichica svolge un ruolo importante per la funzionalità della legge 104 fondamentale per l'inclusione sociale scolastica dei minori ospedalizzare questi servizi crea solo disagio per utenti già fragili e il rischio è che alcuni di loro non si recchino in ospedale perdendo così la continuità della prestazione i comitati territoriali si sono mosse con presidi raccolte firme informazioni alle persone nei quartieri e a breve ci sarà un'assemblea lunedì tra l'altro faremo un presidio davanti al municipio 7 perché dovrebbe esserci presente il direttore generale dell'ospedale san parlo san carlo dottor stocco uno dei nostri obiettivi dovrebbe essere pianificare interventi territoriali in modo da rendere efficace il lavoro di contrasto alle politiche sanitarie regionali il rapporto con le istituzioni quando c'è stato ha dato solo esiti negativi e quanto è successo con le case di comunità è venuto Bergamaschi della TS al municipio 7 a presentarle con delle slide in commissione sanità peccato che i luoghi dove farle non è in discussione perché tutto già deciso in accordo col comune e alla domanda sul personale da impiegare nelle case della comunità dove lo prendono e se sarà pubblico la risposta è stata che i medici di medicina generale sono liberi professionisti convenzione e per gli specialisti si possono prendere dagli ospedali poi la TS la SST può acquistare prestazioni dal privato l'importante quindi per le persone è avere servizio non importa chi lo eroga questo alla faccia della libera scelta tra pubblico privato che era sempre quello di cui si parlava prima nel municipio 6 promosso da Milano in salute presenti Arci case della carità il presidente del municipio c'è stata una riunione su co-costruire le case di comunità dove sono state individuate delle criticità e preoccupazioni in merito quali ad esempio la lontananza dei medici di medicina generale dagli utenti che lavoreranno nelle case della comunità il fatto che ci sono intere zone periferiche scoperte dai servizi eccetera il presidente del municipio si è limitato a dire che il confronto avuto con la regione non ha portato alcun risultato tranne l'ottenere che l'ospedale di comunità non sarà a San Paolo ma in un altro sito dovrebbe essere l'ambulatorio di via Ferrera anche se nell'ultima delibera regionale si era già escluso San Paolo come ospedale di comunità quindi non mi pare che sia un grande risultato che abbia portato a casa il presidente del municipio su questi problemi molti dei quali comuni a molte realtà territoriali non solo milanesi è fondamentale fare rete su obiettivi concreti perché è difficile che le istituzioni a partire dai municipi promuovano un percorso di partecipazione sulla costituzione delle case di comunità il nostro comitato da tempo sta costruendo relazioni e pratiche con altre realtà comitati territoriali che si occupano di sanità o anche di sanità centri sociali sindacati di base eccetera che spesso hanno collaborato aderito e si sono fatti promotori insieme a noi nelle battaglie sui medici di medicina generale difesa dagli ospedali difesa delle strutture pubbliche nei quartieri stampato bollettini di informazione e denuncia stiamo costruendo un percorso comune con i comitati di medici di cerchiate per o rodense rete sanità pubblica di sesto abbiamo individuato delle priorità uno il problema delle liste di attesa cioè la difficoltà delle persone di avere le prestazioni sanitarie in tempi adeguati e che vivono in solitudine questa situazione si sono attivati in alcune zone lambrate sesto zona 5 e poi nella zona di lodi degli sportelli di ascolto dove si prova a dare delle risposte concrete alle persone per il rispetto dei lea e dei tempi d'attesa attraverso lettere agli URP difensore civico ATS SST e quando questo è stato fatto si sono visti risultati positivi un altro problema è la carenza dei medici di medicina generale possiamo immaginare quindi delle mobilitazioni comuni visto che è una questione che riguarda tutti quindi io credo che oggi abbiamo fatto un dibattito molto ampio e qua chiudo e approfondito su una serie di questioni però credo che sia fondamentale e poi il lavoro che vada fatto nel territorio nei territori da ultimo ma non per importanza dobbiamo affrontare la questione della non applicazione della 194 in Lombardia ci sono circa 144 consultori pubblici e 98 privati è la prima regione per quantità di consultori privati l'85% dei consultori privati di ispirazione cristiana e sistema di accreditamento con la delibera 2594 in deroga quanto stabilito dalle norme permette di non erogare le prestazioni previste per l'interruzione volontaria di gravidanza quindi dovremmo anche un giorno affrontare questo problema e sulla medicina di genere voglio solo ricordare che fuori c'è il foglio per la petizione contro l'altra chiusura trasferimento sia dei due Ompia che dei consultori grazie bene ci andiamo all'inizio di questa giornata della nubia che sta arrivando che si staglia all'orizzonte dell'autonomia differenziata per cui adesso interviene Gianluigi tre anni su questo tema ho preparato delle diapositive probabilmente la visione non sarà ottimale mi scuso è uno dei miei vizi non entrerò nel dettaglio tecnico del dibattito sull'autonomia regionale differenziata provo a elaborare alcune a proporvi alcune riflessioni politiche su eventi che si vanno succedendo intanto intanto di che cosa parliamo allo stato per quanto riguarda la sanità allo stato attuale le proposte della regione Lombardia Veneto e delle regioni Lombardia Veneto ed Emilia Romagna si articolano su otto punti che solo ad elencarli potete mettere a confronto con le acquisizioni che sono emerse dagli ottimi interventi che mi hanno preceduto qualcuno ha dichiarato che manca personale rimuovere i vincoli di spesa per il personale e la gestione del personale queste regioni credono fermo restando ciò che hanno materialmente prodotto lo stato attuale che le loro specifiche realtà economiche possano come dire fare compensare la gravissima perdita di personale che si è registrata dovunque in questi in questi anni e anche in Lombardia pretendono di regolare da sole e di finanziare l'accesso alle scuole di specializzazione le borse di studio i contratti di formazione di lavoro per i medici l'inserimento delle attività assistenziali il loro accesso alle scuole di specialità vorrei segnalare al collega che mi ha preceduto che bisogna poi in questo punto dire che bisogna togliere il numero chiuso della facoltà di medicina evitando di essere succubi di un come dire malagurata competizione sul mercato una diciamo così difesa corporativa del esiguo numero di professionisti che sono sul mercato di tutti i professionisti che servono alla salute bisogna togliere il numero chiuso e finanziare il percorso di studi e anche i percorsi di formazione è un diritto allo studio questo per tutti i cittadini italiani ed è un'esigenza del servizio sanitario nazionale pubblico e anche di quelli privati tra virgolette ma a noi interessa il pubblico questa è una delle cose che potrebbe anche essere nella piattaforma rivendicativa dei colleghi di medicina generale vogliono autonomamente stabilire il sistema tariffario di rimborso e remunerazione con partecipazione esclusivamente per i residenti quindi diciamo una situazione che di prospettiva è far pagare la salute la tutela della salute ai cittadini questo vogliono in sostanza e come se questo possa essere una panacea per i problemi che essi stessi segnalano stabilire un sistema di governance con riferimento particolare alle forme di integrazione ospedale e territorio abbiamo appena sentito l'intervento dell'associata Federsanità in che situazione siamo si vuole appunto affrontare questo tema senza avere un minimo di istanza a risolvere il problema decidere l'inserimento di farmaci nei protuari terapeutici a carico della regione in ragione dell'equivalenza terapeutica in caso di latitanza dell'agenzia italiana del farmaco cioè in sostanza andare a fare una regolazione della distribuzione di farmaci frazionata a livello regionale cosa che è già difficile realizzare a livello nazionale e probabilmente abbiamo visto anche con la pandemia come sia importante una dimensione quantomeno europea e comunque internazionale nella gestione di farmaci stabilire l'introduzione della distribuzione diretta dei farmaci ma soprattutto assicurare interventi sul patrimonio edilizio tecnologico in un quadro pluriennale certo di risorse finanziarie e qui abbiamo l'esperienza del PNRR e vi dico subito che i fondi del PNRR sono totalmente insufficienti a fronteggiare le esigenze di investimento che c'è nel sistema pubblico italiano sia negli ospedali che hanno subito in questi anni grandi depauperamenti sia per realizzare il grande tema delle case della salute delle case di comunità e degli ospedali di comunità e ultima e cosa assolutamente importante non so se voi da lì la leggete istituire e gestire fondi sanitari integrativi da parte della della regione quindi sostanzialmente le regioni vogliono essere loro a gestire la privatizzazione la assicurizzazione diciamo così del sistema sanitario pubblico qui vediamo l'insieme saldarsi di una come dire di un di un tentativo di 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 gestione privatistica a livello regionale della sanità e ovviamente con una dose di irresponsabilità eh amministrativa evidente nessun sistema sanitario regionale è in grado di affrontare autonomamente quelle cose che abbiamo appena detto ce lo ha dimostrato drammaticamente la pandemia e ce lo sta dimostrando adesso vedremo anche il processo PNRR vi ho proposto questa stavo preparando questa relazione quando poi l'otto di settembre cioè ieri sono venute tante cose qui abbiamo eh l'articolo della Gismondo qua di Milano che su un importante quotidiano nazionale per questo ve lo propongo per segnalare l'importanza di tentare di arrivare sui grandi quotidiani nazionali sintetizza abbastanza bene quali sono le situazioni disastrose della sanità pubblica del già nel titolo dice lenta agonia questo è il grande problema che la che l'autonomia regionale differenziata non può che aggravare certamente non può risolverlo e vedete come Gismondi richiama il la mancanza di circa settantamila medici e operatori sanitari secondo me questa stima è sottodimensionata perché è basata sulle strutture esistenti mentre noi dobbiamo espandere l'offerta di servizio pubblico e dobbiamo anche espandere la tipologia delle prestazioni quindi se posso sparare qualcosa di demagogico andrebbe minimo raddoppiata quella in Italia vengono sottratti almeno centocinquantamila posti di lavoro delle varie discipline nel settore sanitario pubblico questa è la verità è una mia stima ma non andiamo lontani dal dal vero il calare della spesa pubblica il calare della spesa sanitaria sulla spesa pubblica da 14 al 13 e 4 per cento nel corso degli anni e questo è riconfermato drammaticamente dalla finanziaria che è poi l'altra cosa della legge di bilancio 22 che è l'altra cosa che è stata resa pubblica ieri e qui si dice che la componente privata ha raggiunto il 25 30 per cento dell'offerta e via dicendo quindi questo è il problema che noi abbiamo di fronte è stato sintetizzato su un quotidiano di livello nazionale ed è assolutamente importante che noi riusciamo ad arrivare a questi livelli di possibilità di dialogo con l'opinione pubblica l'altra cosa che mi è venuta fuori proprio ieri mentre stavo studiando altre cose è appunto il DEF per il 2022 e vedete che per il 2022 la spesa viene assestata intorno ai 130 mila milioni di euro quindi intorno ai 130 miliardi ma poi si prevede come è stato già denunciato di andare a ridurla vi segnalo che dentro poi poi avanti grazie comunque vi segnalo che dentro quella spesa tornando all'intervento di Agnoletto o di Angelo non ricordo la spesa per i farmaci aumenta comunque del 6% quindi la spesa complessiva tende a ridursi ma la spesa per farmaci tende ad aumentare scusa torno indietro l'altra cosa che è venuta fuori ieri e qui torno all'autonomia regionale differenziata ve la propongo in termini di articoli è che la Corte dei Conti proprio ieri ha reso pubblico un suo rapporto nel quale si dice che il processo di autonomia regionale differenziata sostanzialmente si è fermato durante la pandemia ma soprattutto non può andare avanti perché sono fragili inconsistenti le sue basi finanziarie cioè non si sa cosa viene cosa sarebbe devoluto non si sa quali sarebbero i costi non si sa come reperire le risorse e in qualsiasi caso sottolineo una cosa molto importante le regioni che pretendono di avere l'incarico di servire questi servizi pubblici quindi sostanze della sanità dovre anche la sanità dovrebbero dimostrare di essere più efficienti nella spesa nell'utilizzo delle spese che hanno a disposizione rispetto all'uso nazionale questo elemento non ricade immediatamente sul tema sanitario ma come dire va a ricadere paralizzandolo su tutte le altre voci dell'autonomia regionale differenziata ma sempre su questo progetto c'è da notare che già nel 2020 il mondo del ministero della salute attraverso il ministro aveva già indicato come alcune materie non siano devolubili perché hanno una dimensione alle singole regioni perché hanno una dimensione certamente nazionale quindi diciamo qui un altro elemento di debolezza tecnica amministrativa di improvvisazione anche tecnico amministrativa e politica di questo progetto andiamo avanti ecco e a questo punto eh proverò a sospettarmi un secondo per 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 grandi capi non essendo poi tra l'altro uno specialista di diritto eh costituzionale ehm sulla relazione del gruppo di lavoro sul regionalismo differenziato che eh istituì la ministra Gelmini eh il quale gruppo di lavoro ovviamente eh come dire eh aveva come obiettivo di missione dare suggerimenti su come arrivare a una legge attuativa che fosse in grado di attuare il regionalismo eh differenziato in realtà questo gruppo di lavoro fa una relazione che mette in evidenza assolutamente delle ehm delle difficoltà di questo e delle debolezze assoluti di questo progetto già nella premessa dice che nel biennio duemiladiciotto duemiladiciannove sono emerse criticità notevolissime su questo tema evidentemente e lo riconoscono gli stessi che dovrebbero produrre questo progetto successivamente segnala sempre in premessa che occorre riflettere su modalità maggiormente rispondenti a costituzione per dar seguito al regionalismo differenziato cioè è evidente che quella disegno è in contrasto con i tanti passi della nostra costituzione lo vedono e in qualsiasi caso terza premessa questo processo non può entrare in rotta di collisione con il piano nazionale di residenza e resilienza eh e questo vedremo come nei fatti poi verrà eh praticato ma anche riguardo alle materie che vi ricordo previste erano ventitré questa commissione segnala che almeno cinque di esse sono tecnicamente non devolvibili quindi tutta la tutta la l'iniziativa politico-amministrativa è fragile diciamo così è inficiata eh in aspetti importanti dal coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario l'ambiente le grandi opere di navigazione la produzione distribuzione dell'energia l'istruzione e la stessa commissione della ministra Gelmini di centrodestra a dire che queste cinque materie non sono devolubili vi ho accennato rapidamente al tema della determinazione di risorse finanziarie eh non vi dico delle procedure eh per l'attuazione dell'automina regionale differenziata vi faccio cenno semplicemente al tema degli enti locali che già dal millenovecento dal duemiladiciotto aiuto ho detto giusto il processo in atto come dire mette in piedi un centralismo un nuovo centralismo regionale che è presente anche a questa commissione e che viene criticato anche da questa commissione eh andiamo sulle conclusioni rapidamente eh il fatto importante no torno indietro il fatto importante lo vedete segnalato in rosso non vi dico altre cose è che quella commissione lì dice in questa prima fase non pare opportuno procedere ad ulteriori trasferimenti in materia sanitaria eh in attesa di affrontare la riflessione nazionale sull'assetto del sistema sanitario quindi anche sul sistema eh sulla sulla materia sanità la stessa commissione del ministro dice che è opportuno soprassedere eh e si riduce questa commissione a dire che potrebbe essere in un primo tempo avviata la rivoluzione di musei e beni culturali incentivi di attività produttive ricerca scientifica tecnologica ordinamento sportivo edilizia scolastica asili nido area dell'istruzione formazione professionale area delle discipline del lavoro che sono tutte aree che secondo questa commissione secondo me sbagliando eh non hanno un immediato impatto né in termini di livelli essenziali delle prestazioni cosa che invece non è vera né di di tipo finanziario cioè di somme da devolvere alle regioni e quindi potrebbero essere più facilmente eh devolute alle regioni ma qui vi segnalo che tutte queste aree verrebbero comunque a essere proposte sia in termini di privatizzazione e non sto a parlarvi dei musei dei beni culturali privatizzati sia in in termini di attacco ai diritti dei lavoratori eh quando si delighino eh si regionalizzino le discipline del lavoro alle singole regioni contemporaneamente eh materialmente nei giorni scorsi è stato approvato il sono stati approvati gli schemi istituzionali di sviluppo che sono strutture attraverso le quali il governo centrale vuole contro controlla di fatto il modo come le regioni vanno a spendere i soldi del PNRR dentro queste commissioni è tornato il Ministero dell'Economia e Finanza e in queste commissioni possono anche ehm arrivare a maggioranza a chiedere la la sostituzione del governo nei confronti della regione quindi il commissariamento delle regioni questo vuol dire che mentre queste grandi regioni chiedono l'autonomia regionale differenziata il governo le forze che le governano stanno invece come dire centralizzando molto la ehm la la gestione dei soldi del PNRR e quindi anche eh di quelli della sanità tanto che eh c'è stata recentemente una rottura tra governo e regioni sul tema del finanziamento del servizio sanitario nazionale le regioni chiedono scusate il personale le regioni chiedono più personale il governo non vuole impegnarsi a sostenere l'incremento di eh di personale quindi un altro elemento di debolezza di questo di questo disegno avanti e eh è stato anche recentemente proposto dal sindaco Lepore eh da Lepore sindaco del città metropolitana di Bologna una dichiarazione di contrarietà una serie di dichiarazioni di contrarietà all'autonomia regionale differenziata che diciamo così il nostro movimento dovrebbe come dire fare utilizzare e proporre a tutti i sindaci delle città metropolitane compresa quella di Milano visto che siamo in Lombardia questo come iniziativa politica cioè è evidente che questo progetto è eh come dire conculca l'autonomia e il ruolo dei comuni e anche delle città metropolitane visto che sono rimaste poche pochi minuti dico semplicemente che il ministro Gelmini va continuando a dire che tra pochi mesi eh proporrà in Parlamento una legge attuativa e secondo me questo ha una eh significato politico di preparazione della campagna elettorale sostanzialmente il il presidente Bonacini della regione miglioromagna non sto adesso a dirvi il dettaglio con grande ipogresia e demagogia nonostante la presa di posizione del sindaco della città metropolitana di Bologna continuo a insistere sulla autonomia regionale sulla richiesta di autonomia regionale differenziata andiamo avanti io salterei tutte queste diapositive che richiamano come di fatto e questo la puoi lasciare un secondo come di fatto appunto la legge regionale di Lombarda al di là dei modelli del momento in cui ne fa il salto indietro nell'articolo 2 sui principi esprime principi totalmente diversi dai principi dell'833 e del decreto Bindi sia di fatto in situazione di non costituzionalità e il governo avrebbe dovuto impugnarla solo per questo ma non solo il governo anche avrebbero dovuto sollevare questa roba i partiti della cosiddetta area progressista e anche devo dire i sindacati perché questa legge è una legge contro la tecnicamente incostituzionale nel momento in cui sostituisce i principi propri della regione Lombardia ai principi generali costituzionalmente tutelati della legislazione sanitaria quindi della 833 e della stessa legge Bindi va pure avanti non vi sto a fare il ragionamento sulla privatizzazione dell'assistenza sanitaria in Italia vi segnalo che il think tank questi fermi un secondo qui il think tank unipol studio ambrosetti segnala in oltre 650 miliardi la spesa annualmente nel 2021 la spesa pubblica per l'assetto sociale cosa che per la spesa sociale che chiaramente è di grande appetibilità per gli imprenditori privati e qui vedete come la come le differenziazioni regionali siano assolute perché nelle ultime righe ci sono le regioni del sud e nelle prime le regioni del nord e questo è un indice generale di benessere sociale ma non c'è tempo per andare per andare oltre vai pure avanti qui vi segnalo semplicemente che nel 2019 nel 2019 i miliardi spesi in Italia per la sanità privata raggiunsero i 35 miliardi e chiaramente non si fermano ai 35 miliardi gli investitori privati avanti qui vi segnalo che il sistema privato non è più il vecchio privato dei primi del novecento diciamo scusate della fine del novecento il sistema quando parliamo di sistemi privati qui stiamo parlando di strutture addirittura multinazionali qui avete il gruppo Corian che è un gruppo sostanzialmente italiano è diffuso in tutta Europa cioè quando parliamo di privato parliamo non solo nel sistema farmaceutico ma anche nel sistema di erogazione di vendita degli altri servizi di una forte presenza delle multinazionali di una forte centralizzazione delle multinazionali il signore che è a capo di questo gruppo è il finanziatore del giornale Il Domani che è stato citato prima tanto per non fare un caso e sempre per legarmi all'intervento di Angelo gli segnalo che Scacca Barozzi che è il CEO italiano di Johnson & Johnson è anche il responsabile di farmindustria cioè il direttore della Confindustria che tutti i giorni sta nell'ufficio di Giorgetti è il CEO italiano di Johnson & Johnson ok? Quindi queste sono le caratteristiche con le quali noi ci dobbiamo confrontare avanti qui c'è una serie di questioni opportune della petizione popolare contro domenica differenziata avanti in estrema sintesi la plausibilità tecnica e l'appeal presso l'opinione pubblica delle richieste di domenica differenziata già avanzate sono state spassate via dalla pandemia covid-19 e dalla crisi economica precedente che si va accentuandosi con la guerra che si va accentuando con la guerra in Ucraina sono emerse debolezze tecniche politiche ciò nonostante il blocco politico economico e sociale che sostiene l'autonomia regionale differenziata vuole andare avanti a proporla e si mira a una sua adozione in forma ridotta avanti in Lombardia questo processo è ovviamente in testa e quindi voi avete in qualche modo anche l'onere di una grande battaglia di liberazione nazionale dall'autonomia regionale differenziata oltre che dall'intervento privato dal neoliberismo e dalla presenza privata in sanità voglio segnalarvi che è molto importante ci saranno delle campagne elettorali sia nazionali che amministrative che sono l'occasione che saranno devono essere l'occasione per una nostra forte rivendicazione del potenziamento del servizio sanitario nazionale e dell'opposizione della domenica regionale differenziata e quindi bisogna chiamare a questo punto raccolta esplicitamente anche il mondo del lavoro io vi dico molto più esplicitamente qui se la CGL non conferma se non scende in campo con tutta la sua forza se noi non ci poniamo questo obiettivo questo processo va avanti in generale va avanti il neoliberismo in Italia e voglio dirvi anche un'ultima cosa qui noi stiamo parlando molto di sanità io vi devo dire che come tutti gli altri italiani in questi giorni sono invece molto preoccupato per le vicende dello scontro in Ucraina tra il imperialismo diciamo delle oligarchie russe e le oligarchie che sono organizzate nella NAO scusate nella NAO nella NAO io penso che nel mondo della sanità un'iniziativa che noi dobbiamo assumerla non è non è accettabile che noi noi della sanità siamo qua a parlare d'altro quando quando in in Ucraina stiamo rischiando tutti i giorni un disastro nucleare e soprattutto un eccidio che è che è connesso alla guerra e che evidentemente ontologicamente opposto alla pace comunque detto tutte queste cose ultima diapositiva e ultimo appello in Lombardia è stata lanciata la petizione popolare contro l'autonomia regionale differenziata io vi invito a sostenerla so che già lo fate come dire prendiamo spunto delle prossime campagne elettorali per chiedere e fare raccolta di firme per proporre ai candidati che vanno a queste che vi parteciperanno di esprimersi contro l'autonomia regionale differenziata sapendo che noi comunque una qualche avendo le flessibilità necessarie a fare in modo che i vari consigli si esprimano contro sperabilmente a cominciare col comune di Milano scusate la lunghezza e vi ringrazio l'ultimo intervento di Laura Balsecchi che entrerà nel merito dell'RSA dell'RSD poi possiamo anche prevedere qualche intervento non molti perché visto visto l'orario se qualcuno magari vuole intervenire me lo faccia sapere in qualche modo aggiungo solo quello che stavo dicendo prima a tre anni che c'è un'altra nube che in qualche modo sta arrivando che è il DDL Concorrenza che nel campo della sanità apre ulteriormente al discorso dell'accreditamento lo sfilaccia ancora di più e questo è stato il cavallo di Troia in particolare in regione Lombardia per lo sbilanciamento tra pubblico e privato per cui dovremo far fronte anche a questa iniziativa normativa che stava andando avanti Laura grazie ok scusate così mi sentite ok niente dicevo allora che questa relazione vuole proprio entrare nel merito di quella che è stata e che ancora adesso la rappresentazione l'esemplare della cattiva sanità della mala sanità della privatizzazione riguardando proprio riguardando proprio la popolazione anziana con tutto quello che in questi anni non ha avuto e continua a non avere che cosa ha significato la tragedia covid per le persone anziane malate ha significato i decessi ha significato abbandono ha significato chiusura di queste strutture chiusura nelle proprie abitazioni allontanamento dai propri cari da chi svolgeva un programma terapeutico riabilitativo mancanza quindi di prestazione mancanza di momenti di socializzazione e ha significato anche difficoltà tra gli operatori se parliamo all'interno dell'RSA ma non solo anche nel territorio proprio perché nella prima fase l'ondata covid ha colpito impreparati tutti quanti impreparati e poi come ben sappiamo condizionati al non utilizzo dei dispositivi di protezione che cosa ha significato che per un po' finalmente se pensiamo nel 2020 sulla stampa c'è stata una ridondanza c'è stato un richiamo continuo di questo che era ciò che avveniva e scoperchiava tutto quello che c'era dietro soprattutto nelle strutture sanitarie definite chiamate RSA e finalmente se ne è potuto parlare anche se questo poi di fatto non è che a tutt'oggi ha portato a grossi cambiamenti ha significato la nascita di commissioni ministeriali se pensiamo a quella del Monsignor Paglia che doveva rivedere i requisiti l'organizzazione le nefandezze e tutto quanto se pensiamo anche a quante parole sono state scritte a quanto è stato siglato nei diversi piani per la non autosufficienza normative indicazioni linee guida piani che esistevano già pensate al piano della cronicità del 2015 quanto rappresentava e diceva per il bene della popolazione anziana il bene della popolazione con disabilità della popolazione non autosufficiente ma poi concretamente dove siamo che cosa si è effettivamente concretizzato la mancanza di un piano pandemico è questo che vi ho riportato io spero che si legga è quello che ha scritto Amnesty nei report di denuncia che ha fatto in questi due anni non so adesso se l'avete letto comunque il governo italiano e le autorità regionali non sono riusciti a intraprendere misure tempestive per tutelare la vita e i diritti delle persone anziane presenti nelle strutture residenziali socio-sanitarie e di fatto hanno adottato politiche e consentito pratiche che hanno messo rischio la vita e la sicurezza sia degli ospiti che degli operatori sanitari tali decisioni e politiche hanno prodotto o contribuito a determinare violazioni dei diritti umani degli ospiti anziani residenti in particolare del diritto alla vita alla salute e alla non discriminazione hanno anche avuto un impatto sui diritti alla vita privata e familiare degli ospiti delle strutture ed è possibile che in certi casi ne abbiano violato il diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti e su questo sappiamo che proprio Amnesty intende aprire un'ulteriore indagine per verificare quanto è avvenuto ma prima della pandemia com'era la situazione noi come Medicina Democratica abbiamo denunciato seguito tantissime situazioni prima della pandemia mancavano cure sanitarie territoriali mancava una rete di servizi sociali sanitari di aiuti familiari e le risposte da dove arrivavano certo dal medico di medicina generale perché non poteva non esserci però è una risposta contenuta tutto quello che deve investire invece in un'assistenza in un progetto di cura riabilitazione eccetera è sempre stato sostenuto nel privato abbiamo in parte l'ADI l'assistenza domiciliare integrata che come ben sapete sono pacchetti di ore che vengono date molto minime e tendenzialmente la necessità di avere un caregiver badante cosiddetto assunto privatamente dalla famiglia oppure un familiare in genere donna che si stacca e che prosegue nell'assistenza a livello ospedaliero gravissima da sempre la situazione lo era prima della pandemia ma ripeto ancora oggi assenza di una continuità ospedale territorio ospedale degenza riabitativa o lungodegenza nonostante anche qui fiumi di parole scritte nei nei POAS nelle indicazioni ospedaliere della presa in carico della continuità nel territorio di fatto quello che avviene che è avvenuto e che avviene è che le persone con dei problemi neurologici ortopedici in quanto anziani da soli in difficoltà eccetera vengono dimessi in modo non protetto dagli ospedali non vi è alcuna presa in carico e anzi la responsabilità viene demandata la responsabilità della continuità di cura viene demandata ai familiari chiedendogli di portare avanti un po' quello che diceva Elisabeth che deve farsi carico si ritrova ancora prima della dimissione o una volta a casa a dover organizzare tutto e gestire oppure gestire anche un trasferimento da ospedale ospedale perché in genere l'ospedale dice adesso il tuo familiare è dimesso portalo da dove questa è è stato ciò che poi comunque ha prodotto anche la necessità di arrivare al ricovero in LRSA come unica risposta anche perché veramente molto spesso non si è in grado di gestire a domicilio la persona quali cure per cui ci sono state per le persone anziane in tutti questi anni cure ripeto nel privato se guardiamo l'assistenza domiciliare integrata è in capo alle cooperative le RSA sono strutture private for profit al 25% accreditate al 48% e pubbliche un 26% tenendo conto che in tutte le situazioni c'è una grossa retta che l'utente o i loro familiari sono costretti a sostenere per di più parliamo di strutture che sono molto differenziate da strutture piccole a strutture grosse fino ai mille posti letto come quella del trivulzio o del del palazzolo strutture enormi che sono gestite da gruppi già richiamati anche nelle slide precedenti gruppi multinazionali che vivono sul profitto che vivono sui bilanci quali COS ORIAN CORIAN hanno sereni orizzonti e che non hanno sicuramente nessun interesse sul bene e la salute della popolazione anziana e anche per gli operatori no? Per gli operatori è una condizione di lavoro e di vita difficilissima oltre a essere con dei salari molto bassi e con un carico di lavoro che porta veramente all'usura che porta a malattie professionali però il personale come sappiamo in queste strutture è sempre stato molto ridotto avevamo fatto un'indagine con dei questionari per cercare un po' di fotografare la situazione proprio negli ultimi due anni in alcune RSA e quello che risultato è che il medico non è sempre presente alcune ore alla settimana il personale infermieristico ha un numero esiguo gli operatori sociosanitari sono ho scritto proprio la colonna portante delle strutture perché tutto l'assistenza la cura l'affetto direi anche l'affiancamento le risposte ai familiari sono in mano a queste figure che non hanno anche una formazione adeguata ma chiaramente siccome proprio non hanno una formazione adeguata hanno un costo molto basso e quindi vengono assunti tutte le altre figure non sono presenti se non per qualche accesso alla settimana per cui su questo ci sarebbe da aprire tutto un discorso sia sul tipo di formazione sul tipo di preparazione sull'organizzazione anche dei tirocini lo sviluppo di una medicina che possa investire in tutti i professionisti una parte di preparazione adeguata per poi dare una continuità in queste strutture così come dovremmo riparlare dei contratti di lavoro anche qui Amnesty ha fatto un report proprio nell'autunno del 2021 riguardante proprio gli operatori dell'RSA anche questo ve lo leggo dopo il rapporto abbandonati lanciato a dicembre Amnesty International ha rivolto nuovamente la sua attenzione alle strutture residenziali per anziani con una ricerca che analizza le condizioni di lavoro precarie e insicure di operatrici operatori sanitari e sociosanitari impiegati in queste strutture nonché il forte clima di intimidazione a cui sono stati sottoposti durante la pandemia il nuovo rapporto chiamato messi a tacere e inascoltati in piena pandemia pubblicato nell'ottobre 2021 documenta le violazioni della libertà di espressione e riunione sindacale ai danni di staff e sindacati nelle strutture da parte dittatori di lavoro pubblici e privati per cui questo richiama sono stati proprio intervistati diversi operatori e operatrici e le denunce sono veramente molto molto forti e richiama la difficissima condizione di lavoro di questi operatori sempre in questi due anni come medicina democratica abbiamo cercato di avvicinare i diversi comitati dei familiari nell'RSA in particolare a partire dal primo periodo con i decessi si erano costituiti comitati come il comitato Trivulzio il comitato di Bergamo e altri e con questi comitati abbiamo realizzato un documento che ripercorre le principali necessità e un'organizzazione nuova di cure sanitarie per le persone anziane vi ho estrapolato tre punti le cure sanitarie devono essere in capo al servizio sanitario nazionale come era previsto dalla legge 8.33 questo è proprio il primo punto tutto quello che cura sanitaria deve rientrare nel capitolo del servizio sanitario nazionale e regionale la sanità deve essere centralizzata e non suddivisa in ventosistemi vedi quello che è stato detto in un intervento prima e si devono promuovere si deve promuovere un piano di assunzioni del personale prevedendo le diverse figure professionali e l'adeguata preparazione arriviamo al PNRR il PNRR non riporta molto se non la parte della casa della comunità della medicina del territorio e anche qui mi viene da dire tante parole scritte che richiamano la necessità di avere una dimensione sociale la necessità di un'integrazione socio-sanitaria la necessità che i diversi servizi in capo alla regione in capo al comune dialoghini e trovino le diverse soluzioni ma in realtà tutto poi si traduce in due o tre punti che lasciano molte molte perplessità nella missione cinque quello che ha colpito e quello che stiamo anche contestando è che se avete presente il punto quello che è in grassetto viene proposto un finanziamento di questi 300 milioni per la riconversione dell'RSA e delle case di riposo per gli anziani in gruppi di appartamenti autonomi allora sicuramente anche proprio nel documento che abbiamo realizzato noi e anzi voglio fare un passo indietro negli anni novanti la medicina democratica aveva proposto anche un progetto di legge regionale sulle eh sulla modificazione delle cure sanitarie in questi progetti in questo documento si richiama l'importanza di una medicina del territorio comprese anche le comunità gli appartamenti il co-housing no tutte queste soluzioni che sono importantissime ma questo non significa chiudere o riconvertire l'RSA l'RSA sono strutture devono essere strutture sanitarie che rispondono dei bisogni sanitari perché è inutile che mi ripeto però la patologia anziana è diventata sempre più complessa eh la vita si è allungata però chiaramente la si paga con tutta una serie di patologie che eh no che si accumulano e che creano una serie di difficoltà bisogna dare delle risposte sanitarie oltre che chiaramente di vita assistenziali e tutto quanto per cui non può esserci una proposta di riconversione dell'RSA no ci deve essere una proposta di rivedere i requisiti e l'organizzazione dell'RSA e organizzare delle strutture nel territorio che possano favorire quando possibile l'organizzazione in comunità e il richiamo lo riprenderemo anche dopo elementi di domotica telemedicina e monitoraggio a distanza eh lasciano eh diversi punti di domanda d'altra parte eh tutto il PNRR investe su quella che è la nuova tecnologia in particolare per la sanità richiama questa organizzazione che eh in parte può avere un significato ma non deve essere quella che esclude tutto un approccio un rapporto umano un lavoro di equip per cui eh secondo la mia la nostra valutazione eh sull'RSA nel PNRR non vi si trova delle grosse indicazioni eh su una importante cambiamento delle cure sanitarie e non vi è nulla sui requisiti organizzativi strutturali nulla sulla necessità del personale e della sua formazione eh nella missione secola della salute appunto come ho già detto si eh punta sulle reti di prossimità e va bene questo adesso lo riprendiamo e si punta ancora una volta su innovazione ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale con i limiti eh di cui vi dicevo prima la casa della comunità eh come ben sappiamo perché eh no se ne discute eh e eh faccio anche un richiamo alla nostra legge regionale eh che punta sulla casa della comunità ma nulla dice su un cambiamento dell'RSA no? e su un cambiamento delle cure per gli aziani nella casa della comunità eh viene scritto nel PNRR si prevede un team di multidisciplinare di medici di medicina generale pediatri di libera scelta medici specialisti infermieri di comunità altri professionisti e vi possono essere anche degli assistenti sociali no non vi possono vi devono essere cosa vuol dire vi possono cioè nelle dei preamboli mettiamo la dimensione sociale e poi nella concretezza possono forse per cui in rosso se lo vedete sono le considerazioni scritte eh da me e le condizioni indispensabili sono una presa in carico multiprofessionale multidisciplinare con una valutazione globale della persona del suo ambiente della sua famiglia attivando personale risorse finalizzati sia alla prevenzione di ulteriori complicanze qui ci sarebbe un capitolo enorme alla cura alla riabilitazione senza dimenticare gli aspetti umani di socializzazione devono essere inseriti nel servizio sanitario nazionale e gestite dal servizio sanitario regionale senza prevedere appalti a cooperative o terzo settore come invece sappiamo che è tutto diverso soprattutto se andiamo a vedere la nostra legge regionale sviluppo delle cure intermedie anche questo lascia veramente dei punti di domanda enorme attivazione degli ospedali di comunità ovvero di strutture sanitarie territoriali a ricovero breve destinate a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media bassa intensità clinica e per decenza di breve durata ovvero 15-20 giorni allora vogliamo scherzare? no? questo è una risposta dei bisogni di una popolazione che ha delle necessità cliniche che deve essere seguita in ospedale che già normalmente in ospedale è seguita tenendo conto del DRG relativo al tipo di patologia a seconda del DRG può essere ricoverato 30 giorni 45 giorni 60 giorni e quando arriva al termine comunque sia in qualunque condizione nonostante che la legge 833 dicesse che deve essere completato tutto l'iter curativo e riabilitativo invece la persona viene dimessa allora attiviamo degli ospedali di comunità dove persone che hanno dei bisogni bassi ridotti di bassa intensità possano andare e starci per poco tempo a gestione infermieristica con un medico che ancora una volta arriva a chiamata per cui questo punto non va assolutamente bene e aggiungo nella nostra regione sapete bene che lo sviluppo di tutte queste curi intermedie centri subacuti slow medicine sono inattivo e date in gestione alle cooperative non fanno neanche parte del fanno parte dell'ospedale però di fatto sono gestite da sono esternalizzate sono gestite da cooperative per cui questo presta proprio il fianco ad organizzare questo tipo di situazione si ribadisce sempre la missione 6 la casa come primo luogo di cura assistenza domiciliare telemedicina perché ancora una volta la casa come primo luogo di cura sulla base di un'introduzione della telemedicina della domotica della digitazione per favorire la presa in carico attraverso l'attivazione di protocolli di monitoraggio da remoto e con finanziamenti di progetti di telemedicina eccetera eccetera teleassistenza telecontrollo eccetera allora ripeto non è così la presa in carico prevede che ci sia un'equipe multiprofessionale a partire dal medico dagli specialisti necessari che ci siano tutte le figure professionali e che ci sia un approccio diretto e un seguire le persone per cui come proposta un po' conclusiva come proposta un po' conclusiva rivedere l'assetto di servizi sociosanitari con la nascita dell'equipe multiprofessionali le RSA siano pubbliche in capo al servizio sanitario nazionale i comitati stanno chiedendo un tavolo nazionale per affrontare tutto il tema il comitato dei familiari e vedremo di riuscire a portare avanti una rimessa in discussione almeno di alcuni di questi punti mi fermo per il capitolo si chiudiamo perché giustamente la CGL ha ben altro da fare velocissimo proprio per titoli primo aspetto questo ovviamente come abbiamo detto è una è una tappa per cui ovviamente continua un aspetto sarà sicuramente nella discussione futura immediata sarà quello appunto delle case della salute ricordo che Maccacaro le vedeva come case della partecipazione quindi dove le case per la salute quindi non semplicemente dal punto di vista della funzione dei servizi che sono che vi sono previsti ma come punto di contatto di definizione con la popolazione noi siamo appunto oggi in una giornata di contro la comprensione della salute riteniamo che uno dei primi principali aspetti aspetti che determinano questo è la privatizzazione in Lombardia abbiamo visto come sta andando e ci stiamo attivando attivando contro la commissione della salute e anche diversificazione e oggettivazione della persona con tutti gli annessi che abbiamo visto vaccini vaccini inclusi e noi riteniamo che alla fine l'unica possibilità per uscirne e avere dei movimenti una sinistra che si faccia calco di una serie di contenuti che sono in buona parte dentro la legge 833 e che devono essere presi velocissimamente ricordo proprio per titoli i brevetti la ricerca pubblica la produzione di farmaci la negoziazione si costa dei famici fare in modo che l'Europa si occupi di salute e non solo di mercato l'informazione sulla salute la rimozione dell'obbligo fiduciario dei lavoratori in particolare della sanità il contrasto all'ottomedia differenziata e aggiungo davvero per ultimo e questo ovviamente non c'è sindacato ma ha un avviso che rivolgiamo se non vogliamo tornare al pre riforma sanitaria con mutui assicurazioni almeno il welfare aziendale che venga messo in discussione quindi ci vedremo ovviamente su questi campi e i comitati continueranno ad agire in questa direzione grazie 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 grazie